ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto a due comici i vostri clara campi e marco champier oggi puntata delle grandi occasioni dei grandi incroci no chiamiamolo così delle coincidenze no perché è il terzo robert di fila che facciamo perché la storia comincerà esattamente il 2 aprile di 35 anni fa perché oggi vi raccontiamo la storia del macellaio di kansas city robert berdella eccoci qua allora a parlare di robert berdella il macellaio di kansas city che tra l'altro altra coincidenza kansas city è in missouri brava esatto in missouri noi in missouri andiamo di brutto sì sì missouri ci amano esatto che stranissima sta cosa che c'è kansas city in missouri che poi tra l'altro è confina col kansas ma lo fanno per confonderci poi kansas city è proprio lì vicinissimo proprio al kansas effettivo è tutto per confondere sì 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 è lì a metà tra nel confine tra missouri e kansas city ma a proposito di kansas city dobbiamo ricordare che faremo delle live sì in due grandi città in due grandi città una è milano che però sarà un posto piccolo che ospiterà un numero di persone molto limitato e quindi appena faremo appena avremo il biglietto per c'è il biglietto il link per il link per prenotarsi ma guarda quando esce la puntata dovremmo averlo quindi in teoria vi mettiamo già sulle instagram stories poi dopo lo metteremo anche sul sito crime and comedy punto it quindi se siete a milano volete venire il 28 aprile il 28 aprile ok 28 aprile proprio a milano milano città da spaces infatti è un posto un po strano non è un teatro come gli altri però sarà una serata figa prenotate subito il vostro posto perché i posti sono veramente limitati stavolta esatto e poi a fine maggio il 21 maggio finalmente saremo a roma che ci state chiedendo tutti ma quando venite a roma il 21 maggio il 21 maggio esatto e anche qua adesso appena abbiamo il link abbiamo le cose definitive vi spammiamo tutto perché ovviamente ce li abbiamo ce li abbiamo potete già prendere i biglietti per roma anche lì ogni tot ve lo mettiamo sulle instagram stories che chiaramente scadono è però ogni tanto controllate che ve le rimettiamo e poi caricheremo tutto anche sul sito 21 maggio a roma al teatro dei servi sì ok e ci sono già i biglietti prendeteli perché penso che sarà almeno l'ultima volta in questa stagione che veniamo a roma la prima è ultima noi non è che diremo non torneremo mai più però non a breve insomma se siete della zona volete venirci a vedere cogliete l'occasione perché già così è stato complicato esatto e tra l'altro anche a milano sarà l'ultima occasione di vederci dal vivo a milano perché poi ci prendiamo una pausa e perché sennò poi l'ultima occasione suona molto apocalittico sì no per questa stagione per questa stagione cioè fino a settembre sarà molto improbabile ecco in tutto questo so cosa state pensando perché come ogni volta che facciamo questi annunci ci arrivano i messaggi ma quando venite in veneto ragazzi abbiamo contattato tutti i posti possibili in veneto verremo dateci il tempo di organizzare allora stiamo aspettando la risposta dall'arena di verona per ospitarvi tutti quelli che ci stanno chiedendo quando venite in veneto perché se non riempiamo all'arena di verona cioè veramente siete delle persone bruttissime sì perché ma il massimo delle richieste che riceviamo sono in veneto ragazzi ci stiamo organizzando abbiamo stiamo vedendo padova stiamo vedendo verona stiamo cercando di arrivare però sai che mi hai fatto venire in mente che in effetti l'arena di verona è tipo l'unico posto che non abbiamo contattato quindi adesso adesso provo a questo punto però poi venite tutti ci sarà il concerto di morriccone comunque possiamo fargli l'apertura comunque comunque a proposito di a proposito di niente cominciamo a ringraziare i nostri patreon che ci stanno supportando e stanno producendo effettivamente crime in comedy in modo attivo e quindi ringraziamo tutti i serial follower che ovviamente ci ci supportano quindi un abbraccio a tutti i serial follower e poi ringraziamo i nuovi crane stalker che sono nicole ravizza che ha fatto l'upgrade dai bristofila grande e silvia segato e poi ringraziamo gli ultimi iscritti bristofili sì giusto che sono marico 85 silvia soldati andrea appendino sayurilow sayurilow lo fanno apposta sì lo fanno apposta lo fanno apposta mi scrivo a patreon e poi schiaccio la tastiera con la fronte quello che viene fuori il mio nick no senza offesa però no stiamo scherzando chiara mp che sarà militar polis minimo mp silvia linda falco maria laura mencaroni elisa pau caterina cafissi ilaria giangrande ciao ilaria salutaci john che non lo sentiamo più infatti scomparso nell'uola cecco signorini alessandro ruzzone becky bex memi chiaretta e eliana scala grazie mille per esservi iscritti qualcuno è tornato tra gli bristofili fate benissimo e poi se dobbiamo fare il compleanno ovviamente ai nostri patreon cioè gli auguri di compleanno ai nostri patron perché loro lo fanno già da soli esatto non glielo dobbiamo fare noi però facciamo un sacco di auguri esatto tra l'altro compleanno in questi giorni e quindi facciamo gli auguri a chiara zappatore a ambra 93 a chicca io e a silvia miau ragazzi secondo me miau non lo so adesso nel caso correggici che già già c'era il dubbio la scorsa puntata però noi mentre registriamo questa non è ancora uscita quella scorsa quindi non abbiamo dato il tempo di correggere per noi sei miau comunque grazie grazie mille a tutte e tantissimi auguri tantissimi auguri a tutte quante e poi va bene ovviamente la puntata di oggi oltre alle centinaia di richieste da chiunque ascolti il podcast ce l'hanno richiesta specificamente due patreon che sono marco de lucca e cecilia crozer penso che si pronunci così croze ed è un gran suggerimento perché devo dire io questo nome lo ammetto faccio coming out non l'avevo ancora sentito prima delle vostre richieste e mi sono scimmiata di brutto poi perché è una storia allucinante è una storia veramente allucinante allora io la conoscevo marginalmente però poi sì ma ma scoperchietto il cervello perché è una roba fuori di testa tra l'altro facciamo un disclaimer è una storia particolarmente pesante e per raccontarla bisogna per forza entrare in determinati particolari se siete di stomaci deboli tipo me pensateci se andare avanti o meno io non so se arriverà alla fine della puntata casomai se Clara studiato le passo il testimone ottime premesse devo dire partiamo bene ma sai che cosa è una storia che non è come ti aspetti perché il macellaio di Kansas City non so perché non ti aspetti una storia così no no e quindi mi ha un po' sconvolto esatto sì ma tra l'altro finisco l'ultima cosa il patron che ci ha richiesto la storia Marco De Luca l'altra volta gli abbiamo fatto gli auguri perché ha avuto la bambina e gli rinnoviamo gli auguri speriamo che stia andando tutto bene sì tantissimi auguri ci ha mandato anche la foto sì esatto e niente buttiamoci in sta storia allucinante no e appunto comincia esattamente 35 anni fa perché è sabato 2 aprile del 1988 e siamo appunto a Kansas City in Missouri siamo in Charlotte Street a un certo punto c'è questo signore che sta controllando i contattori di delle 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 billette no di di Charles Street a appunto a Kansas City e a un certo punto vede arrivare verso di sé correndo un ragazzo questo ragazzo zoppica vistosamente no ma la cosa strana non è tanto il fatto che zoppichi il fatto che sia completamente nudo sia ricoperto di lividi e abbia addosso solo un collare da cane questo ragazzo gli dice di chiamarsi Christopher Brison dice di avere 22 anni e di essere stato rapito da un certo Robert e deve chiamare cioè nel senso e se questo qua lo può aiutare per chiamare la polizia ovviamente questo qua che stava controllando i contattori bussa la prima casa che verso cui stava andando per controllare questo contattore si fa aprire e chiede di parlare di appunto se può usare il telefono per chiamare la polizia effettivamente chiama la polizia arrivano quattro poliziotti arrivano due pattuglie no perché arrivano due due pattuglie della polizia non arrivano detective né niente e questo Christopher Brison racconta una storia allucinante si racconta che è stato rapito il 29 marzo quindi tre giorni prima da una coppia nel senso o meglio lui stava facendo l'autostop si è fermata questa macchina con questa coppia lui è salito in macchina ovviamente erano marito e moglie è stato portato in questa casa al 43 15 di charlo street lì a kansas city è stato stordito e stato violentato per tre giorni poi allora la polizia dice cioè i poliziati dicono questo qui è fuori di testa cioè uno che va in giro nudo con un collarino e tutto quanto è fuori di testa perché è chiaramente una sua scelta andare in giro nudo con un collare no ovvio ovviamente però era il 2 aprile il giorno prima era stato il primo di aprile e quindi dicono magari è uno scherzo di aprile cioè un pesce d'aprile no perché anche in america ce l'epris full che si fa il primo di aprile e il 3 aprile tra l'altro il giorno dopo sarebbe anche stata pasqua in realtà poi cioè nel senso guardandolo bene effettivamente vedono che questo qua è ricoperto di lì a lividi dappertutto agli occhi arrossati e gonfi alle labbra arrossate e gonfia no e lui dice che fa fatica a parlare anche fa fatica a parlare perché ha tutta la gola irritata e la gola irritata perché lui dice che questo qua gli ha versato in gola del della roba per sturare i lavandini in realtà è ammoniaca no ammoniaca e gli era passata anche sugli occhi perché voleva ceccarlo e questo appunto che l'ha rapito si chiama robert bertella lui all'inizio dice che era una coppia e lui stava facendo l'autostop poi non c'è più la donna e c'è solo l'uomo allora gli chiedono le cose cioè lui dice no effettivamente c'era solo un uomo fatto l'autostop perché perché christopher faceva il prostituto e aveva paura e si vergognava a dire che faceva il prostituto ovviamente perché diceva se no nel senso non mi credono magari è peggio eccetera ma non aveva tutti i torti infatti infatti già così non gli hanno creduto subito figurati se avesse detto sono un prostituto che lavoro nella zona dei prostituti gay figurati no esatto è stato anche furbo a dire ho fatto l'autostop ha fatto bene esatto nella tristezza di tutto questo lui però ha fatto bene nell'assurdità della storia assolutamente infatti poi lo portano ovviamente un polistato rimane di pattuglia fuori dalla casa di questo robert bertella e altri due lo portano in ospedale e l'altro chiama la centrale per far arrivare ovviamente gli investigatori altri altre pattuglie e così e questo christopher racconta appunto questa storia allucinante lui è salito in macchina di questo robert che l'ha portato a casa e appena sono entrati in casa subito è stato colto da una puzza devastante che puzza lui dice di feci di cane in effetti tutto l'appartamento tutto il piano del pian terreno dell'appartamento di questa villetta che è una villetta a tre piani tutto il pian terreno era invaso di roba giornali scattoloni cose eccetera e sacchi della pattumiera è un accumulatore seriale esatto un accumulatore seriale che è il mio futuro quindi mi preoccupo sempre perché lo vedo che mi sto dirigendo verso quella roba lì è sì sì mi preoccupo anch'io quando dici registriamo da me insomma c'è un po' è vero è vero e niente comunque appunto uno schifo tremendo nel 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 salone no di di questa casa e christopher vuoi lui dice che voleva andarsene in realtà questo robert gli dice guarda andiamo al piano di sopra che in realtà è pulito lo porta al piano di sopra robert dietro di lui quando stanno arrivando al piano di sopra christopher sviene sviene perché si è preso una legnata dietro la testa con un tubo di ferro quando si riprende è legato al letto e robert gli dice cose del tipo tu non hai scelto di essere qui ma adesso ci sei scegli tu se sopravvivere qui e per sai farcela puoi scegliere se farla facile o difficile se mi piaci e comincio a fidarmi di te allora farà qualcosa di carino per te tipo comprarti le sigarette prendere un film mentre torno dal lavoro e cose così non cercare di combattere contro di me o ti darò ancora quello che hai già preso prima vedi quello che hai già avuto e non è nulla in confronto a ciò che puoi ancora avere le uniche cose cui devi pensare siamo tu io e questa casa sono arrivato fino a questo punto con altre persone prima di te e ora sono morte a causa degli errori che hanno commesso mamma mia mamma mia e poi questo robert gli inietta qualcosa in gola questo qualcosa è probabilmente una droga ovviamente christopher non lo sa è una droga che lo fa svenire lo fa svenire e robert e lo violenta lo violenta più volte e poi e questo qui succede per quattro giorni di fila tre giorni di fila perché dal vento la sera del 29 marzo fino alla mattina del 2 aprile e punto christopher dice che gli ha passato sugli occhi qualcosa che bruciava che poi appunto si scoprirà che ammoniaca gliela ha buttata in gola gliela iniettata anche nella dove ci sono le corde vocali nella faringe no sì sì perché l'obiettivo l'aringe o faringe non lo so dove sono qua le corde vocali comunque sì c'è proprio l'obiettivo era di indebolirgli le corde vocali come indebolirgli la vista esatto e tra l'altro gli ha dato delle sprangate sulle mani in modo da da rompergli le ossa delle mani che per fortuna non ci è riuscito gli ha fatto molto male però con questo tubo di metallo e e a un certo punto christopher dice che si è svegliato e c'aveva qualcosa che gli pizzicava sia lo scrotto che la gamba questo qualcosa erano i coccodrilli collegati a una macchina per dare l'elettricità fatta penso in casa con una batteria così e robert gli ha gli ha fatto l'elettroshock allo scrotto e al specifichiamo i coccodrilli sono le pinzette quelle con i dentini no perché magari uno non è avvezzo a queste cose si visualizza dei coccodrilli dalla florida no 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 esatto esatto e poi gli ha fatto vedere polaroid ma tantissime polaroid di altri ragazzi nelle sue condizioni probabilmente quando gli ha detto quella roba lì altri come te cioè nel senso ci sono stati altri come te che mi hanno combattuto e adesso sono morti effettivamente lui dice che in queste polaroid si vedevano ragazzi legati ragazzi comunque torturati ma alcuni sembravano anche morti no e ovviamente questa confessione è una cosa che sembra incredibile alla polizia allora cominciano a vedere chi è questo robert berdella e la polizia scopre che già nell'85 robert berdella era stato attenzionato alla polizia perché era stato collegato qualcuno aveva denunciato già lo aveva denunciato per la sparizione di due ragazzi uno era jerry howell e l'altro e robert sheldon due ragazzi che erano misteriosamente spariti uno nell'84 e l'altro nell'85 la polizia gli era stata addosso gli era stata talmente addosso che a un certo punto robert aveva preso un avvocato che poi aveva minacciato la polizia di denuncia per per molestie no per stalking perché effettivamente cioè la polizia non aveva trovato niente su su robert però continuavano a seguirlo gli mettevano le pattuglie fuori di casa eccetera quindi questa cosa era andata avanti per diversi mesi e poi appunto aveva preso un un avvocato per liberarsi tra virgolette della della polizia no sì sì no ma perché poi robert era uno molto litigioso in quel senso perché tipo se anche litigava con i vicini di casa li portava dal giudice di pace quelle cose sì sì era abituato a gestire le cose in questo modo ha detto lo faccio pure con la polizia e ha funzionato e ha funzionato perché in effetti non nel senso non hanno lasciato stare non hanno lasciato stare per altri tre anni ok effettivamente poi la pattuglia aspetta robert fuori casa no e intanto che già che ci sono chiedono i vicini perché comunque sarà sparsa la voce di questo ragazzo tutto nudo che appunto era era per strada tra l'altro lui dice che è riuscito a liberarsi perché dopo tre giorni che era lì in casa di robert era riuscito a convincerlo a lasciargli il televisore acceso e poi robert gli aveva messo pare il telecomando in mezzo alle ginocchia in mezzo alle gambe per per accendere e poi gli aveva legato le mani davanti perché lui aveva detto guarda che se mi leghi le mani al al letto cioè poi faccio fatica a respirare no e allora robert gli aveva aveva consentito a legargli le mani davanti perché lui dice che era stato abbastanza condiscendente nelle nelle richieste di robert soprattutto quelle sessuali no poi va bene veniva drogato e avvelenato con l'ammoniaca quindi però lui comunque in quella situazione così terrificante se l'era giocata bene gli aveva aveva fatto capire a robert no guarda non cerco di sfidarti mi sottometto fidati di me e questo si è fidato di lui e infatti si è giocata benissimo devo dire si è giocata sì si è giocata benissimo tra l'altro era stato fortunato perché a robert aveva lasciato dei fiammiferi in casa forse gli era caduta la busta cioè in casa in camera gli era caduta la gustina eccetera lui era riuscito a recuperare i fiammiferi con quei fiammiferi era riuscito a dar fuoco ai legaci che gli tenevano le ferme le mani poi per paura era saltato giù dalla finestra del secondo piano tra l'altro rompendosi il piede certo e quindi era per quello lì che il tipo all'inizio l'aveva visto camminare cioè correre tipo zoppicando però che aveva una una frattura al piede la polizia ovviamente aspetta robert il ragazzo era riuscito a scappare perché robert era andato a lavoro quella mattina lì aspettano appunto robert quando tornano ovviamente lo fermano ovviamente è accusato gli dicono che è accusato di molestie su 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 questo ragazzo e gli chiedono se possono perquisire la casa se lui ha consente lui ovviamente non ha consente no dice che deve prima mettere in ordine si esatto si deve prima mettere del prima mettere in ordine tra l'altro già che ci sono chiedono i vicini i vicini dicono sì no beh robert è uno abbastanza simpatico saluta sempre l'unica cosa che c'è che c'è il giardino intorno alla casa un po lasciato andare un po sporco no loro ci tenevano al vicinato no queste cose qui e quindi riescono alla polizia riesce a farsi dare un mandato subito lo stesso giorno entro sera riescono a entrare in casa e quello che trovano è anche lì una roba fuori di testi innanzitutto trovano adesso non so da alcune parti dicono due da altre parti tre cani ciao ciao sì anch'io mi sa che ho trovato tre più che altro sì sì però da altre parti dicono solo due e questa cosa è importante per quello che troveranno fra poco nelle 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 in altre cose e comunque appunto c'è il piano terra che è invaso da da immondizia poi al piano di sopra effettivamente trovano il tubo di metallo con cui probabilmente era stato colpito christopher trovano il letto il letto ha diciamo i pilastri dalla spalliera completamente consumati cioè nel senso consumate come se qualcuno cioè come se intorno a quelle a quei pilastri fosse restato strisciato per tanto tempo qualcosa no sì non so se capite sì e trovano effettivamente le corde bruciate che che questo christopher ha detto di aver bruciato no appese al al letto trovano un trasformatore elettrico con i cavi che arrivano fino fino al letto quindi con la batteria le cose e poi trovano nella nella cance in questa stanza da letto no che è un letto singolo ti diciamo scusate un letto doppio no però trovano anche delle corde di varie di varie lunghezze delle gacce di cuoio in più un vassoio con sopra una serie di siringhe alcune piene sto male ma e questa qui è solo la prima camera che trovano perché poi entrano nella camera da letto appunto patronale diciamo di robber che quella è leggermente più ordinata di quella di prima e in un armadio trovano un teschio il teschio in realtà ne trovano due poi uno verrà stabilito che non era autentico nel senso non era un teschio finto esatto era un teschio finto un altro invece no un altro pare sia un teschio vero che tra l'altro sembra molto vecchio no due buste con dei denti umani sì sì una borsa con delle vertebre le vertebre hanno dei segni sopra no cioè come se fossero tipo state segate o comunque colpite con con un coltello trovano 300 quelle che poi verranno contate catalogate come 334 polaroid di ragazzi o di di uomini tutti in posizioni strane legati al letto sembra torturati alcuni sono evidentemente morti dalle foto o comunque svenuti e in tante di queste foto ci sono appare diciamo parti del corpo di di un'altra persona che ovviamente è robert berdella infatti a robert poi in nella centrale di polizia faranno delle foto nudo pretende a lui si si opporrà e beh per il riconoscimento è giusto ma tra l'altro scusa le polaroid mica costavano un botto le cartucce delle polaroid questo spese un sacco di soldi adesso costano un botto una volta costavano molto meno poi comunque robert bertella non era uno che aveva proprio problemi di soldi no quello no c'aveva anche la bella villetta quindi quello no però caspita cioè jeffrey damer scansati proprio non penso che avesse neanche lontanamente tutte ste foto no no jeffrey damer ne aveva sicuramente meno anche perché poi ho letto che c'erano 334 polaroide 34 istantanee e non ho capito la differenza tra boh comunque boh stiamo parlando di tempi lontani chissà come cazzo le facevano le foto esatto 25 anni fa tanto che c'erano le foto però ascolta 25 anni fa già non si usava la polaroid quindi costavano tanto no si usava no si usava vabbè c'è siamo nell'88 le macchine digitali le hanno inventate intorno al cioè le hanno cominciato a diffondersi mi pare nei primi anni 2000 ah ok però allora non è 25 anni fa se è nell'88 no 35 35 ma andiamo avanti con le con i ritrovamenti perché ovviamente ritrovano un sacco di oggetti sessuali c'è non solo dildi ma anche c'è tipo robe da mettersi addosso vestiti cioè non 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 vestiti cose fetiche brava esatto cose fetiche non mi veniva il termine vabbè perché cose fetiche è un termine molto specifico non mi veniva fetiche poi trovano ortaggi tra l'altro si ortaggi cose trovano riviste porno porno gay e una marea di aghi ipodermici un libro sui narcotici dei libri di esoterismo si no di satanismo esoterismo e cose del genere trovano un ritaglio dal castle city star sulla sparizione di jerry howell che era uno dei due ragazzi per cui era stato denunciata la sparizione primo il primo sì 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 per cui era stato denunciato è un portafoglio con la patente di james ferris che è un altro che mettiamo lì il nome e in più trovano una specie di diario tacquino scritto con la scrittura stenografata e un sacco di codici sì ok ma non è finita perché c'è anche un semiterrato in questa casa nel semiterrato trovano un grosso bacile una specie di vasca no un pentolone diciamo così no molto grosso un calderone un calderone sì perché la traduzione era tipo vasca bacile così di quello che trovano però era molto grosso sì un catino grosso bravo sì bravo un catino un catino e un seghetto un seghetto a mano e una sega circolare di quelle lì che non so se avete presente quelle dei dei per segare il legno no cioè in genere dei cartoni animati tipo tom e jerry che prima o poi ci si ritrovano sempre con la sega circolare legati ad un pezzo di legno succede sempre sta cosa nei cartoni vecchi esatto esatto una di quelle cose lì una sega circolare già che ci sono guardano nel giardino sul retro cominciano a scavare e subito viene fuori una testa in via di decomposizione sì una testa con ancora attaccato a pelle capelli e cose del genere si seppellita lì nel giardino seppellita esatto e niente cominciano a indagare su questo Robert Berdella a dire di sì no? a dire di sì anch'io a naso sì esatto e cominciano a indagare su appunto su Robert Berdella viene fuori quello che vi raccontavamo prima che era stato denunciato che la polizia gli stava addosso eccetera e viene fuori anche un testimone un certo Freddy Kellogg no? che lui di prostituto e lui dice che effettivamente Berdella girava spesso per il Monumental Park mi pare che sia comunque la zona dove c'erano appunto i ragazzi che si prostituivano e tanti avevano paura di lui tanti avevano paura di lui soprattutto dopo l'84 perché giravano voci che lui aveva fatto sparire questo Jerry Howell sì e tanti dicevano sì sono andato con lui però mi ha drogato però mi ha preso in modo abbastanza brutale e cose del genere mi ha infilato le zucchine ma sì esatto perché era un po' una sua fissa questa di tortaggi sì e niente cioè nel senso è questo che è quello che ovviamente la polizia trova i vicini dicono in realtà appunto è una persona simpatica è uno che si è sempre occupato del quartiere è l'unica cosa che ha chi tiene il giardino sporco infatti ci trovano le teste decapitate eh ma capita eh guarda che quando sei un accumulatore seriale a volte non te ne accorgi c'hai dei teschi in giro perché insomma sai quando trovi le cose te le porti a casa no quindi può succedere a tutti esatto sì può succedere a tutti ma vediamo come siamo arrivati a questa situazione perché Robert Berdella nasce come Robert Andrew Berdella Jr. il 31 gennaio del 1949 a Cayoga Falls in Ohio posso sottolineare un altro nato nel 49? cioè sono sempre nati i peggiori sono sempre nati o nel 42 o nel 49 cioè spiegatemi perché esatto sì esatto è figlio di immigrato cioè di un immigrato italiano di prima generazione cioè nel senso i genitori i nonni di Robert Berdella erano italiani si sono trasferiti appunto negli Stati Uniti che è Robert Andrew Berdella Sr. e fa l'operaio stampatore di plastiche alla Ford la madre è Mary Louise Uffman questa cosa la sottolineo perché il padre è particolarmente cristiano cattolico roba che costingeva la famiglia ad andare tutte le domeniche a messa, catechismo e cose così mentre la madre ha il cognome che sembra di origine ebraica Hoffman è vero perché ripetiamolo ancora una volta negli Stati Uniti le donne prendono il cognome del marito sì che poi la gente si arrabbia ma è così esatto legalmente vuol dire che se il marito poi divorzia o muore eccetera loro rimangono ad esempio questa Mary Louise rimane Berdella finché non si risposa e cambia legalmente il cognome sì oppure dopo il divorzio puoi fare la richiesta di cambiarlo però devi fare la richiesta di cambiarlo esatto perché tu comunque hai preso quel cognome legalmente devi rifare i documenti un sacco di donne non lo rifanno per non rifarsi i documenti esatto mentre in Italia le donne si prendono il cognome del marito ma a livello sociale quindi diventano in esatto tipo Berdella quando il marito muore o si divorzano eccetera non devono cambiarlo legalmente per tornare il cognome sì perché loro resta il cognome di nascita esatto ma nei documenti legali anche quando sono ancora sposate cioè comunque rimane il loro cognome di Danubili certo quindi non è che perdono il cognome come negli Stati Uniti che poi vabbè fai niente questa cosa comunque sì però appunto sì è interessante non ci avevo fatto caso che poteva essere di origine ebrea il cognome della madre però lo sai in teoria la fede ebraica si trasmette dal ramo materno quindi magari se il padre della madre di Robert era di origine ebraica giusto ma la madre no magari non l'hanno poi cresciuta come ebrea a livello di religione non lo so ragazzi sto facendo solo delle ipotesi no 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 sì nel senso questa cosa qui mi ha fatto cioè più che altro perché insistono tanto sul fatto che il padre di Robert Berdella quindi Robert Senior fosse molto molto cristiano cattolico servante sì sì l'ammenano un sacco ma guarda in quel periodo lì però c'erano molte persone di discendenza ebraica che magari decidevano perché c'era un po' di discriminazione comunque negli Stati Uniti lo sappiamo ci sono un sacco di ebrei che sono emigrati anche e soprattutto nel periodo della seconda guerra mondiale per ovvie ragioni però si sono creati comunque delle zone ebraiche anche adesso New York a seconda di dove vai ci sono anche i negozi che erano storicamente negozi ebrei adesso non c'è più chiaramente quella differenziazione però era un po' ghettizzato comunque quindi alcune persone soprattutto magari le donne che si sposavano qualcuno che non era ebreo facevano finta di non esserlo questa cosa la dico perché è successo anche ai genitori di Bill Maher che voi direte chi cazzo è Bill Maher non siete tenuti a conoscerlo è il mio comico preferito lui è stato cresciuto cattolico sì tutta la vita e ha scoperto da adulto che sua madre era ebrea ah cioè non lo sapeva ah bene quindi può essere una cosa di questo tipo magari può essere sì esatto può essere una cosa di questo tipo può essere il fatto che che ne so Robert Senior fosse diciamo abusante no verso l'amore e quindi costringesse anche lei ad andare a messa eccetera perché poi vediamo una cosa che succede dopo quindi sì guarda molto probabile molto probabile però vabbè di matrimoni misti i matrimoni misti ci sono sempre stati però per quanto riguarda le religioni tante volte quando ti sposi uno dei due comunque cambia religione quindi può essere anche stato semplicemente una cosa del genere sì però comunque andiamo avanti comunque la famiglia è cattolica la famiglia è molto cattolica ok nasce Robert Robert Berdella Junior quello di cui stiamo parlando e fin da piccolo insomma non piace tanto suo papà perché è un po' robusto è molto sgraziato tra l'altro fin da piccolo ha dei problemi fisici importanti nel senso che gli viene diagnosticata una pressione molto alta e quindi fin da bambino è costretto a prendere le pastiglie per la pressione poi comunque siamo negli anni 50 quindi non è che c'erano le come si dice le terapie mirate come le fanno adesso cioè nel senso come ci sono come ci sono adesso e in più è fortemente miope quindi è costretto fin dai 5 anni a portare degli occhiali con le lenti molto spesse i fondi di bottiglia la cosa ovviamente un po' robusto fondi di bottiglia non può fare sport non fa sport e così viene bullizzato a scuola i professori dicono era un ragazzo molto intelligente però era molto difficile insegnare a lui perché era molto chiuso era molto ritroso rispondeva non era cioè nel senso non si apriva con noi e non si apriva neanche a casa nel senso lui era molto legato al padre solo che il padre a casa visto lo spirito cristiano lo bullizzava lo bullizzava gli diceva tu non fai sport tu dovresti fare sport io volevo un figlio che facesse sport invece non ci vedi un cazzo se ciccione vieni qua che ti prenda cinghiata è certo è certo però la fissa per i figli che fanno sport è una cosa molto americana secondo me poi non lo so non essendo nata io maschio non l'ho vissuta sulla mia pelle sta cosa però cioè tipo mio padre anche con mio fratello non gliene è mai fregato niente che facesse sport o meno una roba molto americana no? sì sì è una roba molto ma io credo che fosse per Verdella Senior fosse una questione di integrazione ma anche perché lui comunque faceva l'operaio alla Ford no? che era la casa automobilistica americana per eccellenza quindi penso che magari immerso in un ambiente operaio sai si parlava sempre di sport di cose mio figlio fa questo gioca a football di qua di là di su di giù e quindi anche lui diceva anche mio figlio deve essere così e infatti poi nel maggio del 1956 nasce Daniel che sarebbe il fratello minore di Robert Berdella e Daniel è diverso da Robert è innanzitutto più magro e quindi il padre è molto è molto più affezionato a Daniel e visto che comunque Daniel sembra un po' più portato verso lo sport il padre non fa altro che dire a Robert hai visto tuo fratello Daniel come bravo hai visto di qua hai visto di là vieni qua che ti do qualche cinghiata giusto per non alimentare la gelosia del maggiore verso il minore no no infatti vabbè ma poi una volta che c'era la cinghia in mano c'hai i due figli gli dai un po' uno un po' l'altro cioè non è che scassi di botte solo uno e comunque appunto entrambi vengono su diciamo picchiati fisicamente anche un po' moralmente perché comunque il padre era uno che faceva paragoni guarda guarda tuo fratello cosa fa guarda tuo fratello cosa non fa guarda lui così e appunto Robert viene su un po' chiuso viene su un po' chiuso molto legato al padre più che altro penso per una questione di voler accontentarlo cioè avere la sua approvazione sì ok e poi verso la pubertà scopre anche di essere omosessuale scopre di essere anche omosessuale e ma al padre questo andrà benissimo al padre ma anzi sicuramente e no infatti lui farà coming out solo da da grande da adulto verso gli anni 70 ma ci sta cioè obiettivamente negli anni 50 60 non è che era così comune fare camminare tutti i propri genitori cioè no infatti anzi anzi lui da da ragazza nella prima adolescenza quindi penso in 13 14 anni così si trova anche una fidanzata sta con con questa ragazza perché appunto penso che cercasse di 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 cioè di non esserlo no cioè nel senso almeno all'inizio sai sì ma poi sai nell'adolescenza comunque devi ancora un pochino capire chi sei quindi ci sta anche che fai i tentativi poi ricordiamoci appunto il periodo storico non è proprio come adesso che non c'è quasi niente di strano all'essere omosessuali cioè ai tempi era una roba strana di cui quasi non si parlava quindi magari uno neanche gli veniva in mente che quello che c'è un po' di strano in te è in quel senso lì eh no infatti e quindi mi sta simpatica questa ragazza io sto simpatico a lei siamo fidanzati sì cioè secondo me quelle sono cose soprattutto appunto in un tipo di società come quella dove non si parlava di sessualità dove l'omosessualità non era una una possibilità quasi non ti viene neanche in mente quando sei così piccolo no? esplori non lo so no 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 non lo conosco personalmente Bob quindi boh però ma infatti il infatti c'è la cosa è proprio questa qui probabilmente anche per una questione di di ignoranza generale no della società non avere nessuno con cui parlare eccetera può essere anche una cosa che boh non so mi piace cioè trovo carino il mio compagno di classe però che cosa sarà mai comunque lui appunto crescendo no comunque nella pubertà eccetera diventa anche molto scontroso diventa molto scontroso dicono che sia altezzoso no e e anche cioè non particolarmente polite com'è che si dice gentile educato esatto gentile educato soprattutto col sesso femminile esatto e questa cosa sia fuori di casa quindi a scuola eccetera sia in casa con la madre no e e arriviamo al 1965 perché nel 1965 sembra che succeda tutto a robert tutto lui ha 16 anni ha compiuto 16 anni e per emanciparsi un po' da casa per sai magari far contento anche suo padre papà guarda sono uno che si dà da fare eccetera cerca lavori cerca lavori e trova lavoro in una cucina come tipo sguattero lavapiatti e comunque aiuto aiuto cuoco sì no e in questa cucina un suo collega forse il cuoco forse abusa di lui sì no non sappiamo cioè nel senso io non ho trovato particolari sull'avvenimento l'ho trovato riportato da alcune parti quindi non so forse Clara hai trovato qualcosa di no anche io ho trovato dei riferimenti più che altro a questo episodio però da quello che ho trovato io sembra proprio si tratti proprio di violenza sessuale è infatti cioè sembra una cosa molto violenta ah ecco perfetto non gli ha tastato il culo cioè eh no infatti infatti comunque il punto viene violentato sì nell'estate del 65 esce al cinema un film che si chiama il collezionista il collezionista che era andato a Cannes ed è stato il primo e unico film no che ha preso il premio per il miglioratore e la migliorattrice tutte e due all'interno dello stesso film che sono Terence Stamp e Samantha Edgar ok per il protagonista maschile e protagonista femminile e che cos'è il collezionista il collezionista è un film tratto ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Lake sì Leonard Lake esatto ed è Charles Edgar il film è tratto dal libro preferito di Lake esatto che è il libro di John Fowles e il film lui cioè parliamo del film perché appunto lui si appassiona al film parla di di questo uomo che si innamora di si innamora fino a un certo punto nel senso che è attratto si ossessiona brava si ossessiona questa donna fino a rapirla e chiuderla in uno scantinato no e tenerla lì nel film poi a un certo punto verso la fine la donna muore nonostante lui faccia di tutto per non farla morire e il film finisce con lui che segue un'altra forse un'infermiera io non l'ho vista non mi interessa Terence Stamp no perché devi fare del dissing gratuito così a Terence Stamp tra l'altro no comunque il protagonista segue un'altra donna che ovviamente si capisce che verrà rapita e chiusa anche lei nello scantinato ok Robert poi dirà che questo film gli ha cambiato la visione del mondo perché questo film gli si incastrerà nel cervello e non se ne andrà più no soprattutto da un certo punto in poi sempre nel 65 beh a Natale c'è la famiglia va a Canton in Ohio da dei parenti a passare il Natale la sera di Natale il padre di Robert quindi Robert Senior sta male sta male viene portato in ospedale a un attacco di cuore non ho capito perché Robert debba tornare a casa da solo tipo due giorni dopo il 27 dicembre forse non stava bene con i parenti non lo so o forse era cioè non cioè il fatto che suo padre stesse male fosse ricoverato in ospedale era per lui uno shock troppo grande non poteva stare lì comunque lui torna a Cuyoga Falls in Ohio arriva a casa suona il telefono risponde gli dicono guarda tuo padre è morto di arresto cardiaco sì e la cosa lo manda in sbattimento ma la cosa che lo manda ancora più in sbattimento è che di lì a pochi mesi sua madre si risposa sì troppo presto per lui esatto troppo presto in generale cioè possiamo anche essere d'accordo tutti poi ognuno fa le sue scelte nella vita però in effetti è strano dopo pochi mesi da una morte inaspettata perché comunque il padre di Robert era giovane aveva 49 anni aveva 39 anni ah caspita 39 no scusa sì 39 anni e allora era giovanissimo gli ha fatti presto i figli allora io l'avevo l'avevo fatto più a Gé comunque sia appunto giovanissimo cioè non te l'aspetti e quindi se dopo pochi mesi da una morte così inaspettata tu ti stai già sposando con qualcuno vengono i dubbi che questo qualcuno lo conoscevi già da prima esatto o vengono i dubbi che non aspettavi altro che la persona con cui risposata morisse per cioè rifarti una vita e qui apriamo l'indagine sul vedere se in realtà non l'ha avvelenato esatto esatto no però per quello che dicevo che forse lei era stata costretta ad abbracciare la fede cattolica cristiana e non fosse una scelta di ah ok abbandono la mia e capito per questo motivo qua cioè nel senso mi fa sospettare il fatto che il padre sia morto l'è subito dopo qualche mese e si sia risposata in ogni caso Robert su questa cosa qui sia sulla madre da cui si stacca ancora di più sia per la morte del padre rimane sotto e si rifugia fondamentalmente in due cose una è la passione per il collezionismo che lui collezionava Franco Bolli collezionava monete e cosa come faceva a collezionarli si era fatta una rete di amici di penna a cui scriveva e si faceva mandare le monete i Franco Bolli ma soprattutto le foto dei monumenti in giro per il mondo cosa che poi lui coltiverà questa passione per tutto il resto della vita che è anche carina questa cosa comunque è anche carina anche perché poi a un certo punto ci costruisce su un business diciamo così no e l'altra cosa a cui si appassiona è la religione la religione lui comincia a leggere un sacco di libri di religione comincia a informarsi sulle religioni infatti a un certo punto diventa ateo ma guarda che funziona così la strada per l'ateismo è documentarsi sulle religioni più leggi testi sacri più vai in quella direzione almeno parlo per me no no ma effettivamente è così ma infatti a me a volte capita di parlare con gente che si dichiara cattolica di qua e di là e faccio dei riferimenti biblici che non colgono e mi rendo conto che non l'hanno mai letta la bibbia ah ma per questo per questo sei religioso ok ok perché non sai quello in teoria ok perché se lo sai non ci credi più vabbè ragazzi adesso si offenderanno tutti opinione personale andiamo vabbè offendetevi per qualcos'altro no comunque niente siamo appunto nel 66 nel 67 Robert finisce la scuola cioè nel senso finisce le superiori sì e si si sposta cioè nel senso se ne va si stacca completamente dalla famiglia e se ne va a Kansas City se ne va a Kansas City al Kansas City Art Institute perché? perché lui è appunto appassionato d'art appassionato di robe di antiquariato no diciamo diciamo così e la sua passione cioè la sua passione il suo desiderio sarebbe di sarebbe stato di diventare un un insegnante un professore infatti poi finirà a fare il cuoco esatto che è proprio la storia della mia vita mi lascia perplessa perché magari sono ignorante io ma c'è l'istituto d'arte di Kansas City è così rinomato cioè perché mi fa strano sei in Ohio dove vado puoi andare ovunque uno va di solito in California va a New York va a Kansas City Missouri ma io credo che fosse anche una questione economica magari probabilmente sì ci sta perché sicuramente la vita anche ai tempi costava meno lì credo sì sì piuttosto che magari New York o cose del genere dove penso fosse molto più costoso per studiare è anche più più difficile entrare forse è possibile ok comunque siamo appunto nel 1967 siamo alla vigilia del 1968 e che cosa si fa nel 1968 si beve e ci si droga probabilmente e si fa l'amore libero in teoria e si fa in teoria in teoria si fa l'amore libero allora Robert Verdella sembra uno particolarmente pieno di talento uno particolarmente studioso uno che si impegna uno che proprio le cose gli piacciono finché appunto non non entra nel mondo della trocca nel mondo comincia a drogarsi probabilmente comincia all'inizio a fumare poi appunto siamo alla vigilia degli anni del 68 sì siamo nel 68 in un istituto d'arte quindi è normale che si droghi onestamente esatto io credo anche per una questione di accettazione per riuscire a comunicare cioè nel senso a entrare nei gruppi cioè avere dei rapporti con altre persone perché lui era sempre stato per tutta l'infanzia e l'adolescenza abbastanza chiuso abbastanza isolato sempre bullizzato eccetera quindi se trovi un gruppo di cioè se comunque a scuola sei da solo tra virgolette per avere degli amici fai quello che fanno le altre persone che magari fumano eccetera e lui comincia a fumare comincia a bere comincia penso a farsi di LSD e per mantenersi già che c'è la spaccia spaccia questo fino uno dei lavori più diffusi tra gli studenti quindi sì anche tra i drogati però va bene vabbè sono sinonimi le due cose comunque lui all'inizio del 1968 ha la brillante idea di 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 vendere della droga a un poliziotto sotto copertura e quindi viene arrestato in in Missouri e gli fanno finisce a processo lui in realtà paga la cauzione paga tipo 3000 dollari di cauzione che i giorni nostri sono qualcosa tipo 25 26.000 dollari di di e non è poco no il fatto che lui abbia 3000 dollari nel 68 da spendere così ok che tra l'altro una quando sotto Manson ci hanno commentato eh però negli anni 70 l'LSD costava tipo un dollaro sì ma un dollaro degli anni 70 sono tipo 17 moderni una roba una roba del così tanto sì vabbè comunque sono di più sicuramente comunque lui aveva questi 3000 dollari da da spendere per uscire di galera e infatti un mese dopo quindi a febbraio del 68 viene fermato insieme ad altri due ragazzi per spaccio però stavolta in Kansas nella nella contea di Johnson che sarebbe la allora se vedete il Missouri cioè il Missouri a destra e il Kansas a sinistra ok Kansas City è proprio in mezzo sul confine tra Missouri e Kansas oltre Kansas cioè quindi a sinistra in Kansas comincia la contea di Johnson ok ok lui viene fermato nella contea di Johnson probabilmente essendo uno stato diverso dal Missouri dove era già stato arrestato sono un po' più clementi con lui perché comunque lui si fa cinque giorni di galera ma poi le accuse cadono non viene portato il tribunale eccetera però ovviamente ha le spese legali da pagarsi in Missouri e cosa fa comincia a cucinare cioè comincia a cucinare non come Breaking Bad comincia a fare l'aiuto cuoco come si dice nei bar nei ristorantini di Kansas City e sta cosa diciamo che prende un po' cioè lo prende abbastanza sì no già che c'è già che ha un sacco di droghe per le mani le testa su degli animali tipo un cane gli testa dei tranquillanti su su un cane sì ma lo fa proprio come progetto d'arte però perché c'entra con la scuola sta cosa del cane allora come progetto d'arte per cui poi lui mollerà la scuola fa un'altra roba io non ho capito se sta cosa qui del cane la fa davanti ad altri o la fa per i fatti suoi no secondo me la fa davanti ad altri perché adesso vediamo un po' dei suoi progetti artistici scolastici che di solito hanno a che fare con papere oche animali di quel tipo però io so che quando poi lo mandano via definitivamente c'entra la cosa del cane che tipo droga il cane il cane muore per questo mi è venuto il dubbio che fosse una sorta di progetto perché cioè altrimenti che cosa cioè perché la scuola ti manda via se tu droghi un cane perché il cane non andrebbe drogare sono assolutamente d'accordo però perché la punizione arriva dalla scuola e perché magari lo ha fatto nel campus è qualcosa del genere non so perché poi c'entra la scuola questa cosa eh sì perché poi appunto nel 69 lui decide a 20 anni decide di mollare definitivamente il Castle City Art Institute perché riceverà delle grosse critiche perché per un progetto d'arte di fronte a tutta la classe del professore eccetera decapiterà spenderà e cucinerà un'anatra sì perché pensava di essere l'alberghiero e doveva farvi vedere l'anatra all'arancia ok si è confuso esatto e prenderà ovviamente un brutto vuoto ora penso che il problema fosse decapitare l'anatra però in genere cioè nel senso si cucinano io non ho mai visto un'anatra cucinata con la testa attaccata o un pollo no eh sì sì guarda non l'ho capita neanche io secondo me la sua arte aveva anche un senso lui era fissato perché aveva fatto anche tutto un progetto con i pulcini cioè lui faceva tutte queste cose con questi com'è che si chiamano le papere le anatre le oche i volatili sì i volatili però quella tipologia di volatili i volatili quelli che nuotano anche ecco quelli aveva la fissa con quella tipologia lì e faceva delle cose che utilizzavano la crudeltà sugli animali quindi questo forse non andava bene però secondo me era quella dato che loro era un istituto d'arte non dovete pensare che stavano lì a fare i quadretti e basta facevano le cosiddette installazioni le performance queste cose qua mi viene in mente performance della Abramovic è appunto quelle robe lì fanno e quindi lui aveva questa fissa dell'animale che è l'animale di compagnia però poi ce lo mangiamo e voleva poi vabbè lui è una persona di merda adesso non è che voglio però capisco il concept cioè ad esempio se non sbaglio a un certo punto come progetto aveva fatto questa installazione che era una roba assurda in cui aveva fatto una specie di labirinto e tu dovevi entrare nel labirinto labirinto per persone no? sì e ad ogni persona dava un pulcino in mano e li faceva passare nel labirinto e poi alla fine c'era tipo un film da vedere quando tutti avevano passato erano entrati nel labirinto col pulcino in mano faceva vedere questo film che faceva vedere tutti questi pulcini carini e poi a un certo punto tagliava l'immagine di un mattatoio ma non so se si chiamano mattatoio anche quelli però sai quando tipo per fare i nuggets frullano i pulcini ancora vivi sì ecco tagliava quella roba lì sì e in quel momento le persone che guardavano avevano ancora in mano il pulcino quindi molti non aspettandosi quella scena brutale hanno avuto un sussulto hanno strezzato il pulcino ah ok cioè il suo obiettivo era quello far sì che tu ti affezionassi al pulcino nel labirinto però poi vedendo che cosa succede ai pulcini rischi di ucciderlo con le tue mani ah ok cioè io ce la vedo dell'arte concettuale in tutto questo poi che sia una roba crudele siamo d'accordo però è l'arte è crudele perché rispecchia la realtà crudele cioè il video che ti fa vedere come fanno i nuggets è realtà non è una cosa che ha fatto lui no no certo non lo so è anche questa cosa di decapitare l'anatra cos'era davanti alla classe cioè secondo me lui era interessato a questa cosa che ci piacciono gli animali però poi li mangiamo sì i contrasti gli contrasti che sì può essere può essere una roba del genere in tutto questo non torna il motivo per cui abbia drogato un cane no quello no cioè nel senso poi a meno che poi non se lo sia mangiato allora lì uno dice sì non lo so non lo so che cazzo c'è in testa questo no infatti infatti comunque lui appunto rimane a Kansas City comincia a cercare casa e trova casa appunto nel quartiere di Hyde Park e la trova appunto a Charles Street al 4315 che sarà la sua casa per il resto della sua vita da uomo libero diciamo così no che è questa villetta a tre piani ok lui in questo periodo qua adesso facciamo un passo avanti tipo tra tutti gli anni 60 fino agli anni all'inizio degli anni 80 perché non ci sono record particolarizzati sulla sua vita no nel senso che lui frequenta una serie di appunto ragazzi che si prostituiscono tossici eccetera e cerca di aiutarli no li invita a casa li fa stare a casa sua questa cosa sarà importante anche per dopo e questo lo fa per tutti gli anni 70 addirittura lui entra nel South Hyde Park Crime Prevention e Neighborhood Association ok l'associazione del vicinato per prevenire il crimine esatto e partecipa e anzi aumenta le ronde del vicinato per prevenire il crimine no e diventa addirittura presidente fino a tipo metà degli anni 80 di questa associazione qua e tra l'altro lui facendo il cuoco a un certo punto diventa anche un cuoco abbastanza rinomato no cioè lavora per non lavora più per i ristorantini le tavole calde così comincia a lavorare per ristoranti anche di un certo di una certa importanza lì a Kansas City specialità sempre l'ana tra l'arancia sì esatto specialità l'ana tra l'arancia e pulcini schiacciati purè di pulcino e perché tanto è giallo quindi infatti non devi neanche star lì a togliere quella peluria lì esatto e parteciperà anche a un progetto di cuochi che insegnano a ragazzi che non hanno diciamo sbocchi a cucinare quindi aiutando ragazzi ora tu dici questa persona meravigliosa sì no assolutamente in realtà c'è un un rovescio dalla medaglia di questa diciamo generosità sì perché i sadici a sfondo sessuale i manipolatori usano delle tecniche per soggiogare le altre persone una di queste tecniche è la reciprocità no che sarebbe anche una tecnica di convincimento no per per fare in modo che l'altra persona diciamo sia più favorevole ad aiutarti in determinate situazioni eccetera quindi cosa cosa fanno no all'inizio i sadici soprattutto quelli sessuali così ti offrono soldi ti offrono un posto dove stare ti mettono in una situazione in cui tu poi sei in debito con loro certo no creano un debito in cui che poi tu ti senti sempre per una questione sociale di reciprocità di dover ripagare certo ok però appunto se poi il rapporto va avanti per tanto tempo questa cosa sfocia nel fatto che tu sei succube dell'altra persona no e poi magari la parte sadica la manipolazione porta a anche un dominio fisico ok comunque tutto finalizzato al controllo dell'altra persona perché se tu hai un debito con me sei diciamo io ti cioè nel senso io ti chiedo una roba tu comunque la fai no perché sai di essere in debito no quindi è una cosa è un circolo vizioso no e lui appunto prestava soldi ospitava in casa aiutava in generale questi ragazzi che avevano problemi no sì e quindi sì ok sembra una persona buona agli occhi del vicinato in realtà ha un doppio fine assolutamente e lui tra l'altro verso la fine degli anni 70 quindi 78 79 eccetera comincia una relazione con un reduce del Vietnam questa relazione ovviamente reduce del Vietnam sindrome post-traumatica quel che è aveva i suoi bei problemi e infatti la relazione dura molto poco lui intanto ovviamente ha fatto coming out nel senso che lui comunque non si nascondeva dall'essere omosessuale col vicinato sì sì era apertamente gay cosa comunque ancora abbastanza rara in quel periodo esatto sì però comunque non cioè non è che si nascondesse o altro lui nel senso sì aveva fatto coming out in modo e sembra anche che gli altri lo accettassero non cioè non fosse stigmatizzato o cose del genere intanto appunto fa il cuoco fa il cuoco e comincia così penso per arrotondare penso per come si dice per fare qualcos'altro no comincia a prendere un banchetto al mercato lì di Kansas City del quartiere dove è lui all'Old Westport ok che è una specie di mercato con negozi bancarelle eccetera lui prende questo banchetto dove vende robe di antiquariato robe che gli mandano i suoi amici di penna con cui lui aveva mantenuto comunque i contatti dal Vietnam dalla Birmania quelle cose lì e le vende appunto al suo banchetto che poi lui chiamerà il Bob il Bob's bazar bizzar sì questa è l'unica cosa che me lo fa stare simpatico sì il bazar bizzarro di Bob esatto e appunto vende queste cose qui anche oggetti esoterici oggetti certo di questo tipo qui e questo banchetto comincia ad andare comincia ad andare tanto che lui appunto lo lo prende nel 79 così come hobby tra virgolette nell'82 praticamente molla il lavoro da cuoco e si dedica completamente a come si dice a questo a questo Bob's bazar bizzarro e apre proprio un negozio di Allol di Westport e tra l'altro nel suo biglietto da visita c'è il biglietto da visita io non sono cioè ho trovato quello che c'era scritto tutti dicono non c'è scritta sta roba qua penso fosse scritto dietro perché sulla parte frontale non c'è scritto non ho trovato foto non so da dove viene presa comunque c'era questa frase qua ovviamente in inglese io risorgo dalla morte io uccido la morte e la morte uccide me nonostante io abbia il veleno nella mia testa l'antidolo si trova nella mia coda che mordo con rabbia non ho idea di cosa cosa possa significare una roba del genere boh boh ma io poi non ho capito se sta cosa era proprio stampata sul retro dei bigliettini o se hanno trovato un bigliettino con dietro scritta sta cosa neanch'io però tutti dicono la frase che c'era sul biglietto da visita la frase che c'era sul biglietto da visita boh magari è il biglietto da visita che hanno trovato in casa lui si era assegnato sta frase qua eh infatti infatti anche secondo me comunque a questo punto che si è aperto proprio il negozio il bazar bizzarro di bob si io nella mia mente anche se non è che ci assomigli tanto però nella mia mente io vedo robert come il comic book guy dei simpson perché c'ha anche lo stesso identico atteggiamento con le persone cioè me lo ricorda tanto poi fisicamente un po' meno anche se la stazza vagamente però tipo bob aveva aveva gli occhiali da serial killer cioè quindi adesso anche lì nessuno ha notato niente salutava sempre però aveva quegli occhiali lì quelli con la doppia stanghetta quelli che avevano tutti i serial killer di quel periodo anche se forse in quel periodo tutti avevano gli occhiali così però però nella pop culture sono rimasti gli occhiali da serial killer quelli lui ce li aveva esatto sì nella realtà perché poi nei film tutti quelli che hanno gli occhiali della Ray-Ban praticamente con la montatura grossa sopra e sottile sotto no tipo dorata sotto e nera sopra nel cinema tutti quelli che hanno quegli occhiali sono il cattivo e o il serial killer o il pazzo non so se se vedete anche tipo un giorno di ordinare follia Michael Douglas c'ha quegli occhiali lì se vedete il film quello su su Hansen con Nicolas Cage lui c'ha quegli occhiali lì ma proprio in copertina cioè in locandina quindi se vedete un film cioè una locandina di un film con uno con quegli occhiali lì della Ray-Ban lui sarà il cattivo del film quindi ho fatto spoiler ok comunque di fianco al banchetto di del del bazar bizzarro di Bob c'è un altro banchetto un altro di un certo Paul Howell ok se vi ricordate il nome che è il padre di Jerry Howell quello il ragazzo che a un certo punto sparisce Jerry Howell ovviamente conosce Robert Berdella perché appunto suo padre il banchetto o il negozietto accanto e tra l'altro Jerry Howell insieme ai suoi amici sfottano Bob per Robert per essere appunto gay lo sfottano molto a un certo punto Paul Howell si trasferisce con tutta la famiglia tra l'incrocio tra la 39esima e Main Street lì a Kansas City compra un negozio e l'appartamento sopra ok quindi non è più all'old Westport come si dice al mercato dell'old Westport è proprio da un'altra parte e i due no Berdella e Howell si perdono completamente di vista e lui non vede più neanche Jerry fino all'estate del 1984 e luglio e Jerry che adesso ha 19 anni contatta Robert Berdella perché ha dei problemi ha dei problemi con la polizia non può dire cioè nel senso ha fatto qualche piccolo crimine qualcosa del genere e non può dirlo al padre ok e Robert lo tra virgolette accoglie Jerry lo chiama perché sa che Robert aiuta i ragazzi di un certo tipo no quelli che hanno problemi di droga quelli che hanno prostituti poi Robert dirà che Jerry gli confessa di essere un prostituto si comunque è il 5 luglio del 1984 e Jerry si trasferisce a casa di Robert Berdella che ha in questo momento 35 anni sta un po' con lui no finché Robert non gli dà dell'alcol con dentro il diazepam sciolto no alla diciamo Jeffrey Dahmer gli dà dell'alcol da bere con dentro del diazepam che è un tranquillante no delle benzodiazepine una volta si chiamava Valium cioè adesso ah ok si 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 una volta il marchio era Valium adesso si chiama solo diazepam cioè c'è ancora il Valium però il principio attivo è quello e poi gli fa un'iniezione di acepromazina ok che sono andato a vedere è un antipsicotico negli anni 50 era un antipsicotico no negli anni 80 veniva usato come sedativo per animali ok ok infatti poi troveranno anche nel in casa forse l'avevo detto un libro sui sedativi su sui prodotti per animali tipo appunto sedativi antibiotici cose del genere che lui aveva perché aveva appunto questi cani ciao ciao sì ok appunto Robert droga Jerry no Jerry a un certo punto si si sveglia legato al letto sì si sveglia legato al letto e viene violentato per quasi 28 ore di fila da Robert sì no nelle poche nelle poche nei pochi momenti in cui Jerry si sveglia gli chiede il perché gli sta facendo quello che sta facendo Robert e se può lasciarlo andare solo che la risposta di Robert è prendere una siringa e iniettare gli altra droga mamma mia sì e questo appunto va avanti per 28 ore poi poi specifichiamo veramente lo violenta quasi senza sosta perché avevo già fatto riferimento ai famosi ortaggi cioè sì esatto non è che era sempre la violenza proprio attiva nel senso che inseriva la sua parte organica no inseriva anche altri prodotti organici e non sì anche cose molto più hardcore esatto o anche no vabbè adesso a Jerry non mi ricordo cosa l'ha sottoposto però lui piaceva fare anche cose tipo feasting sì e questo qui ci arriviamo dopo tra l'altro diciamolo da adesso non si ride più adesso è la parte più pesante della nostra storia perché appunto dopo 28 ore di violenza quasi ininterrotta Jerry muore Robert dirà alla polizia che lui non sa se è morto soffocato perché l'aveva ovviamente imbavagliato gli aveva messo il classico straccio in bocca e chiuso la bocca con un altro bavaglio quindi non sa se è morto soffocato dal bavaglio e dalle droghe perché era drogato pesantemente o dal vomito dal suo stesso vomito e sì perché essendo imbavagliato in quel modo poteva essere soffocato col vomito certo esatto e noi sappiamo che lui va avanti 28 ore a violentarlo ininterrottamente perché perché Verdella scrive su suo diario su quello che poi troveranno ogni cosa che fa al ragazzo e la documenta anche con le polaroid e una volta che Gerry muore Robert lo trascina giù nel seminterrato lo appende per i piedi al soffitto e gli taglia la giugolare e le vene all'interno dei gomiti sotto mette quella specie di cattino bacinella pentolone che aveva cioè che hanno trovato e lo dissangua così intanto gli scatta delle polaroid perché poi troveranno appunto le polaroid di questo ragazzo appeso per i piedi mamma mia si usa la tecnica per dissanguare gli animali esatto prima della macellazione perché appunto lui tra esperimenti d'arte e fare il cuoco direi che ne sapeva di ste cose esatto poi una volta che è completamente dissanguato lo seziona lo seziona con un coltello con la motosega quella circolare che dicevo prima si prende tutte le parti molli le mette dentro dei sacchi del cibo per cani questi sacchi li mette dentro ai sacchi neri dalla pattumiera lascia tutto sul marciapiede il lunedì mattina passa la nettezza urbana tira sui sacchi e del corpo di Jerry Owl non si sa più niente lui scriverà cioè lui Robert Berdella scriverà sul suo diario che è nato il metodo Berdella ottimo ottimo bene esatto esatto e lui dice che ma il metodo Berdella ah sì adesso ce lo spieghi sì ok ok il metodo Berdella è questo qua di così dice di diciamo sezionare i cadaveri e poi farli smaltire dalla nettezza urbana ok che è un po' rischioso è un po' rischioso è un po' rischioso ma gli andrà nel senso a lui andrà molto bene la cosa sì e lui dice e poi dirà ovviamente la polizia una volta interrogato che il fatto di avere Jerry semi svenuto a casa eccetera gli ha fatto tornare in mente le emozioni che aveva provato col collezionista sì no e infatti è da lì che lui comincia a essere ossessionato effettivamente dal film ok ok perché gli ritorna in mente che poi tra l'altro prima ho fatto il parallelismo col comic book guy dei Simpson e c'è in una puntata di Halloween c'è il comic book guy che è tipo un cattivo dei supereroi e si chiama il collezionista sì e rapisce le tipe rapisce Lucy Lawless Sina sì sì la principessa guerriera e dopo lui praticamente c'è questa collezione di tutti questi attori che interpretano i personaggi dei film dei telefilm e li mette nella plastica no eh ma sì giusto preciso però eh ma c'è anche un personaggio della Marvel che si chiama il collezionista che lui che adesso nei film è interpretato da Benicio del Toro ok e forse muore in uno degli ultimi Avengers però lui rapisce le forme di vita da tutti i pianeti da tutte le cose e li mette dentro delle tecche di di vetro di esposizione sì di vetro di esposizione ma c'entra anche con i guardiani della galassia il collezionista c'ha che fare con loro ecco allora lo conosco eh sì 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 si vede forse nel 2 nel 2 sì perché a Disneyland in California l'attrazione che prima era Tower of Terror l'hanno rifatta a tema guardiani della galassia c'è il collezionista che gli ha rapiti per la sua collezione e tu li devi aiutare a fuggire esatto eh sì ok allora sì esatto e lui però vabbè è un personaggio dei fumetti e poi vabbè dei film eccetera e tra l'altro Berdella poi dirà alla polizia oltre a quella cosa lì del collezionista che lui non voleva uccidere Jerry è morto in casa sua però ovviamente non poteva denunciare la morte accidentale di uno drogato per 28 ore violentato allo sfinimento e quindi ha deciso di macellarlo certo il fatto di macellarlo l'è citato tremendamente ok e quindi in effetti cosa succede che Robert ha un cooling off period molto lungo cioè non va a cercare subito un'altra vittima anzi un'altra vittima gli capita in casa perché nove mesi dopo il 10 aprile del 1985 e qui torniamo sempre ad aprile Robert Sheldon che ha 19 anni chiede a Robert Berdella se lo può ospitare perché gli chiede se lo può ospitare perché a un certo punto faccio aprire una piccola parentesi sembra che tu cioè nel senso che lui è un sadico che uccide le persone in casa sua tutti vogliono andare a casa sua come se casa sua fosse un buco nero che risucchia le vittime così no in realtà il motivo è quello lì perché lui prima cioè nel senso fino adesso nel metà degli anni 80 lui ospitava ragazzi a casa sua gli dava ospitalità ovviamente loro pagavano un minimo di affitto un minimo di cose eccetera e quindi sapevano che potevano contattarlo se avessero avuto bisogno infatti questo Robert Sheldon era già stato da Robert Berdella e gli aveva pagato l'affitto e anche questa volta va da lui e gli effettivamente gli paga l'affitto cioè nel senso gli dice senti dammi un posto per dormire e così e Robert lo ospita lo ospita e tra l'altro questo Robert Sheldon aveva anche un lavoro che poi i datori di lavoro diranno sì effettivamente Robert il 10 cioè il 10 aprile nell'aprile dell'85 è sparito nel nulla non è più venuto al lavoro lui era uno che veniva al lavoro probabilmente questo Robert che aveva 19 anni si era trovato tipo senza casa quindi aveva bisogno di un tetto sopra la testa no cosa succede che appunto trova ospitalità da Robert Berdella il 12 aprile Berdella torna a casa dopo il lavoro e trova Robert completamente ubriaco fradicio sul divano questa cosa lo fa incazzare tremendamente perché lui dice cioè tu vieni a casa mia così e tu ubriachi so poi forse Berdella era rimasto scottato dal fatto di essere arrestato dal nel nel 68 non lo so però si incazza tremendamente per questa cosa ma non è che si è incazzato perché bevi senza di me bevi a casa mia senza di me eh non lo so può essere non non ho trovato spiegazioni però poi lui dirà che a parte uno a parte una vittima tutti gli altri l'ha fatto per punirli dal fatto e per punire se stesso di non essere riuscito a salvarli ok dalle cose quindi quest'ultima parte è un'arrampicata sui specchi importante però va bene esatto però appunto lo trovo ubriaco fradiceo si incazza tremendamente lo droga ah beh certo ovviamente lo droga la classica cosa da fare esatto lo lega a letto a letto nella sostanza al secondo piano e lo tortura per tre giorni e lo violenta per tre giorni si viene allora lui lo tortura per tre giorni in realtà fino al 15 aprile perché a casa sua suona un operaio con cui si era messo d'accordo per riparare il tetto a un certo punto Robert si trova nella condizione scomoda di avere una persona che potrebbe girargli per casa e un'altra che magari potrebbe lamentarsi no e chiede l'aiuto e quindi cosa fa prende e soffoca Robert con un sacchetto con un sacchetto di plastica gli mette un sacchetto di plastica in testa lega con una corda e Robert muore soffocato e fa la stessa cosa che fa con Jerry lo porta in uno scantinato lo dissangua lo macella mette tutto nei sacchi della pattumiera e li fa portare via dalla nettezza urbana tranne la testa la testa che seppellirà nel giardino dietro di casa di casa sua tra l'altro Robert lo dissangua ho letto nella vasca da bagno che voglio dire se non ti vuoi far beccare cioè però eh ma magari l'ha ucciso per farlo stare in silenzio e l'ha dissanguato dopo che l'operaio era andato via ah giusto brava credo penso io ma secondo te il seppellire la testa in realtà aveva un sacco di motivi per farlo ma non è che sei un po' ispirato a Camper può essere da quello che ho capito poteva essere una specie di trofeo si si l'ha tenuto per quello strano che lo seppellisci eh si in realtà non si è strana questa cosa qui della testa perché non lo fa con tutti no no lo fa solo con due non lo so anche perché lui come diciamo Cimelio cioè non Cimelio le cose che tieni i trofei esatto usava le Polaroid le Polaroid e poi appunto era molto dettagliato nella descrizione di quello che faceva le vittime infatti anche per Robert si sa che cosa gli ha fatto perché scrive tutto sul diario annota lui non è che annota solo quello che gli fa anche le reazioni che hanno loro mamma mia sì e e qua si ferma poi in realtà per due mesi e uno dice solo due mesi sì perché lui praticamente il 22 giugno del 1985 sente c'è un forte acquazzone una roba così e sente dei rumori che vengono dalla come si dice dalla legnaia del giardino dal capanno che c'è in giardino dietro nel retro va a vedere e trova un ragazzo che già conosce Mark Wallace allora Mark Wallace da alcune parti è insegnato come ventenne da altre parti come ventisettenne quindi non ha tra i 20 i 27 anni ok ok appunto lo trova nel capanno degli attrezzi e Mark appunto si era rifugiato lì per per l'acquazzone perché non aveva casa no era un senzatetto probabilmente un prostituto un sacco di senzatetti però in questa zona eh eh sì doveva essere una zona un po' povera comunque dove sì doveva essere sì o comunque una zona ai confini con con una zona povera perché mi pare che lì vicino ci fosse il adesso non mi ricordo me lo sono segnato non lo trovo tra gli appunti il memorial park dove si prostituivano i ragazzi sì perché va bene effetti Bob ha la villetta così quindi la villetta non è che la costruisci nel mezzo di un quartiere degradato sicuramente era una zona residenziale carina però appunto proprio nelle vicinanze un sacco di ragazzi senza tetto certo sì 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 poi comunque giovani poi no esatto poi giovani poi anche Mark Wallace era andato da lui perché aveva già conosciuto Robert perché Robert gli aveva dato del lavoro infatti Mark gli aveva curato il giardino tipo tagliare l'erba potare le siepi quelle cose lì già diverse volte no quindi sapeva ma non è che forse ci sono tutti questi ragazzi lì perché perché quello che mi stupisce è che comunque sono giovani no cioè quindi se non hai un tetto sulla testa quando sei così giovane anche negli Stati Uniti dove si va via di casa presto comunque stai dai genitori se non hai quando sei quando hai vent'anni ma anche venticinque se non hai un tetto sulla testa va a stare dai genitori quindi mi viene il dubbio magari questi sono dei ragazzi effettivamente gay che venivano buttati fuori di casa per quello e poi non avendo sbocchi magari si ritrovavano costretti a prostituirsi e poi c'era gente tipo il simpatico Berdella che li aiutava esatto eh sì probabilmente probabilmente anche questo cioè nel senso probabilmente è una dinamica che ci sta nella cosa eh sì perché mi fa strano tutti questi ragazzi così giovani tutti senza tetto perché appunto non sono solo le vittime di Berdella ma lui aveva a che fare con un sacco di ragazzi di questo tipo e dico caspita ma Kansas City è messa male comunque perché ci sono tutti questi ragazzi così giovani senza tetto eh sì eh non lo so comunque appunto questo Mark Wallace viene trovato nel campanile di attrenzi e Robert gli offre ospitalità allora lui sarà l'unica vittima che Robert dice io non ero attratto da Mark non mi piaceva fisicamente ed è anche l'unica vittima che non gli fa scattare la rabbia per non essere riuscito a salvarlo ok ok l'unica cosa che lui dice su questo Mark Wallace che era molto agitato era molto agitato allora gli dice guarda se vuoi ho qualcosa per calmarti ok questo qualcosa per calmarlo è una iniezione di clorpromazina che è un altro sedativo antispastico che veniva usato negli anni 80 per chi soffri e che ha attacchi di bipolarismo no cioè nel senso che è bipolare se per caso è un attacco psicotico così veniva usata questa cosa adesso per favore non attaccateci io ho trovato questo come spiegazione ok di che cosa è l'aria non siamo farmacisti esatto clorpromazina non serve per curare il bipolarismo era solo per gli attacchi negli anni 80 quindi ok e niente Mark appunto mezz'ora dopo è legato al letto e torturato e qua le torture cominciano a diventare sempre più diciamo spinte e gravi no perché comincia a bucargli i muscoli della schiena con gli aghi no mentre è legato al letto è il primo a cui attacca i coccodrilli quelli per diciamo prima ai capezzoli per dargli la la scossa è già già secondo me fanno male i coccodrilli da soli comunque sul diario Mark viene definito 86 quindi 86 alle 19 del 23 giugno quindi un giorno dopo ok no quindi 24 ore dopo circa da quando è stato trovato diciamo di sera 86 è il codice che usa Verdella che viene dalla cucina perché nelle cucine di Kansas City pare che 86 venga dato come codice alla roba scaduta o quella da buttare ah sì eh sì sì ok ok e la roba è andata male quella da buttare viene considerata come cioè viene viene bollata come 86 ah che roba strana ma adesso mi è venuto un flash che probabilmente mi sto sbagliando forse c'è una canzone dei Green Day che tira in ballo sta cosa dell'86 però magari mi sbaglio scusatemi non c'entra un cazzo con la puntata dovrei documentarmi prima di dire ci ho avuto un flash così dopo controllo ma se qualcuno conosce la canzone che dice Clara scrittecelo nei commenti anche su Spotify sì magari poi non c'entra niente magari fa l'interimento sì giusto è vero adesso ci sono i commenti su Spotify ragazzi se volete però non vi possiamo rispondere lì eh no non si può rispondere comunque comunque un'altra cosa interessante appunto che Verdella non va in giro a cercarsi le vittime nel senso non è un predattore o meglio è uno di quei predattori che sta nella tana tipo i ragni e prima o poi qualcuno passerà di lì perché appunto il 26 settembre dell'85 è James Ferris che ha 20 anni che lo chiama per avere ospitalità un'altra storia è che Verdella lo carica come prostituto ok lo trova una sera già si conoscevano già si erano visti e lo carica come prostituto e dice che è il primo che lui ha preso con la chiara volontà di torturarlo ok perché lo tortura effettivamente per 27 ore di fila lui addirittura va a prenderlo con la macchina con un drink drogato cioè nel senso con già della roba dentro un drink perché questo James Ferris lo chiama per avere ospitalità gli dice guarda sono qua eccetera infatti l'altra teoria è che lo carichi come prostituto comunque lui in macchina aveva già preparato un drink glielo dà da bere James ovviamente sviene si addormenta quel che è viene legato al letto e secondo appunto il diario viene torturato per 27 ore no o meglio le registrazioni delle torture finiscono dopo 27 ore perché poi lui dirà sì no perché tanto ormai sapevo che sarebbe andato nel senso che sarebbe morto e quindi era inutile continuare a prendere appunti su quello che gli stavo facendo se le reazioni che aveva perché non aveva più reazioni ok lui dice che a un certo punto non riusciva più a stare seduto per più di 10 15 secondi e il suo respiro era molto dilattato e a lui gli fa le peggio cose perché appunto a parte l'elettroshock a parte le cose gli infila mentre sveglio anche aghi sotto le unghie delle mani dei piedi che è una cosa tremenda gli fa l'elettroshock all'occhio gli appoggia una spatola all'occhio gli fa l'elettroshock per renderlo cieco ma come cazzo ti è venuto in mente l'elettroshock all'occhio eh non lo so cioè nel senso e poi appunto gli infila aghi in tutti i muscoli delle mani delle gambe eccetera lui il primo a cui comincia a far bere l'ammoniaca per bloccare o gli raccaccia in gola con la siringa qua non è chiarissimo però per bruciargli le corde vocali e non farlo gridare comunque dopo 27 ore appunto James Ferris finisce nello scantinato e sottoposto al 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 distanguamento sì sì al metodo Berdella sì esatto e il 17 giugno dell'86 quindi otto mesi dopo in casa di Berdella finisce Todd Stoops Todd Stoops è uno che già era stato aveva 23 anni e già era stato a casa di Berdella insieme alla moglie sì nell'84 poi a un certo punto era sparito era sparito Berdella lo lo becca in una delle sue ronde al Liberty Memorial Park ecco che ho trovato ok ok lo becca lo riconosce e questo Todd accetta di andare con lui perché ha bisogno di soldi per drogarsi sì perché Todd era purtroppo un tossicodipendente Berdella lo porta a casa ovviamente lo stordisce tra l'altro per 13 dollari cioè lui accetta di andare a casa di Berdella per 13 dollari lui se lo segna sul diario che sono circa 35 dollari di oggi questi qui siamo nell'86 ok e Todd rimane in camera di Berdella per due settimane in un stato di semi incoscienza perché lui è il primo che vuole rendere schiavo infatti è il primo a cui comincia a spaccare le osse delle mani le osse dei piedi ed è quello che a un certo punto gli pratica un anal fisting così forte da 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 spaccargli l'intestino spaccargli l'intestino e e niente poi quelle volevo dire quelle sono pratiche che vanno fatte con una preparazione adeguata spesso duratura nel tempo perché sennò si si spacca l'intestino per chi non lo sapesse perché comunque ci sono un po' di persone insospettabili che ascoltano Cram and Comedy spieghiamo cos'è il fisting sì perché fist in inglese vuol dire pugno esatto direi che ci potete arrivare quindi anal significa ah vabbè anale fin lì ci arriviamo quindi l'atto di infilare il pugno e parte del braccio cioè mica solo il pugno esatto ok ora che l'abbiamo detto così almeno chiariamo di cosa stiamo parlando sì io sono sono tutto sudato e e niente lui è quello a cui pratica fino appunto a sfondargli il l'intestino tanto che gli viene uno shock assettico assettico è per forza cioè nel senso gli prende la setticemia tra l'altro Priam l'aveva anche torturato psicologicamente perché oltre a fargli del male fisico quando Stoops gli chiedeva da mangiare e da bere Berdella gli diceva no e non gli dava niente e gli portava da mangiare e da bere quando voleva lui ok intanto ovviamente lo drogava eccetera e appunto dopo questa violenza fisica no dopo che appunto lo manda in fin di vita no con con questa cosa qua Berdella prova a salvarlo il che significa che gli inietta degli antibiotici per per animali quelli che aveva per i suoi cazzo di cani e in più gli inietta altre cose come appunto lo sgorgante per lavandini gli inietta il liquidi vari per vedere se boh riesce a disinfettare l'alcol cioè che tu dici come cazzo puoi pensare di disinfettare il sangue di una persona e niente comunque lui nel suo diario scrive che a un certo punto non può più respirare da seduto e muore lo segna come 86 86 il primo luglio del 1986 ok ok e a questo punto ci sono 11 mesi senza nessuno cioè senza di stop sì no fino alla primavera dell'87 è il 5 giugno e Larry Wayne Pearson che ha circa 20 anni va da cioè va da Berdella per avere ospitalità è un altro che lui aveva conosciuto Berdella per il suo negozio di Bob's Bizarre Bazar Bazar Bizarre Bazar Bizarre perché questo Pearson era appassionato di occulto e quindi gli piacevano gli oggetti che aveva Berdella nel negozio gli piaceva chiacchierare con lui così va appunto a casa di Berdella viene ospitato no e e paga l'affitto in realtà non c'è niente di strano no nel comportamento di Pearson tranne che Berdella si rende conto che questo Pearson non c'ha un cazzo di voglia di fare niente non ha intenzione di trovarsi il lavoro non ha intenzione di andarsene da casa sua no e in più Pearson si vanta di aver fatto delle di essere stato in Kansas no di recente tra l'altro lui era appena stato liberato da cioè era appena uscito di prigione quindi aveva bisogno per quello di un posto dove stare era stato appunto in prigione perché aveva rapinato dei gay in Kansas ok ok cioè li aveva addescati e rapinati e questa cosa fa incazzare terribilmente Berdella che il il 23 ma è perché gli dava fastidio che le vittime di questa rapina fossero degli omosessuali non lo so perché probabilmente gli dava fastidio che questo qua rapinasse le persone ok 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 comunque il 23 giugno in pratica gli cioè dopo pranzo così si mettono a vedere un film che è Creepshow 2 pare quello che dice Berdella lo fa ubriacare e una volta che lui è ubriaco Pearson finisce direttamente incatenato in cantina ok finisce incatenato in cantina e subito ammoniaca negli occhi e sgorgante in gola e poi elettroshock e gli dice che se vuole sopravvivere deve fare tutto quello che vuole lui e Pearson cazzo lo fa sì Pearson è il più remissivo il più condiscendente di tutti quanti infatti rimarrà in casa di Berdella torturato e violentato fino al 5 agosto quindi siamo a giugno sei settimane cioè quasi due mesi no e tanto che a un certo punto Pearson per volontà di Berdella aveva imparato cioè tipo a dormire da fermo cioè nel senso a non muoversi la notte mamma mia come cazzo fai a imparare una roba del genere eh non lo so e comunque il 5 agosto la situazione precipita perché durante una pratica di sesso orale che si sta facendo fare Robert forse Pearson dice è il mio momento per riuscire a scappare così eh sì è e quindi gli morde il gli morde giustamente purtroppo non glielo stacca purtroppo eh purtroppo però gli fa molto male sì gli fa molto male gli fa così male che Robert prende la sua spanga di ferro e gli rada in testa stordendo Pearson e quindi lo lega di nuovo a letto e corre in ospedale in ospedale lo diciamo lo curano per le prime per le prime cose più più ma gli mettono tipo il gesso al cazzo con la fascia te lo devi appendere al cuore esatto poi cammini così perché la fascia è sempre un po' corta comunque no sì allora non so cosa gli fanno però gli cioè comunque lui deve subire un'operazione eh sì mi sa che lo devono ricucire un po' eh lo devono ricucire e lui dice lui accetta di essere ricoverato per essere ricucito lo ricoverano nel tempo che aspetta l'operazione perché ovviamente non è che gliela fanno il giorno stesso gliela devono fare il giorno dopo cosa è così lui torna a casa soffoca Pearson con un sacchetto di plastica e torna in ospedale è una cosa allucinata questo poverino aveva subito per settimane pensando tutti i modi di fuggire quando finalmente ci ha provato non gli è andata bene mi rattrista più di tutti gli altri questa cosa sì sì è una cosa sì cioè tra l'altro per sei settimane cioè sei settimane era lì a cercare di capire come sfuggire dalle grinfie di sto mostro sì esatto era lì a cercare anche di capire come sopravvivere perché sì sì lui si era sottomesso per sopravvivere però è chiaro che in ogni momento pensava come cazzo faccio a scappare da sta roba esatto e appunto poi Berdella viene ricucito viene rimandato a casa il 7 agosto Pearson subisce il metodo Berdella e la sua testa viene seppellita in giardino al posto della testa di Sheldon che finirà nell'armadio in camera di Berdella sì ma infatti mi è venuto il dubbio visto che lui appunto faceva tutte queste cose fatte bene dissanguava dissezionava e tutto forse per ripulire un teschio è un po' complicato quindi in effetti se lo metti sottoterra ci pensa la natura e poi dopo tiri fuori il teschio pulito forse era una roba studiata per quello forse era una roba studiata per quello infatti la testa di Pearson viene trovata con ancora attaccati un po' di capelli perché qui siamo nell'agosto dell'87 sì perché non c'era stato abbastanza tempo perché esatto quando viene trovato nell'aprile dell'88 la testa è sì diciamo il teschio è sì diciamo quasi esposto ma c'è ancora capelli pelle certo e un po' di tessuto attaccato sì sì e quindi qua gli occhi probabilmente sì probabilmente gli occhi so che diventano tipo gelatinosi è vero durante la fase della decomposizione vabbè comunque tutti i tessuti molli cominciano a sciogliersi penso che quindi anche gli occhi comunque passano sette mesi e arriviamo al 29 marzo dell'88 e Christopher e Brison finisce in macchina di di Berdella durante uno dei suoi ride per raccattare prostituti non è portarsi qualcuno a casa e appunto Brison è quello che abbiamo visto all'inizio della puntata è quello che salta giù dal secondo piano lui torna va a casa appunto di Robert vede lo schifo che c'ha in soggiorno mentre vanno su al secondo piano viene colpito da una spranga e messo in camera e Berdella gli fa tutto quel discorso del se fai quello che ti dico io sarò carino con te eccetera e sembra che Brison riesca a diciamo fare breccia nell'arido cuore di Berdella e a farlo fidare di sé sì perché anche lui si è sottomesso tantissimo al punto che dopo soli tre giorni Robert ha accettato di legargli le mani davanti sì quasi subito ha accettato di lasciargli accesa la televisione in camera e poi appunto di legargli le mani davanti ovviamente le mani erano legate cioè lui non era libero di andare in giro per la stanza erano comunque fissate al come si dice al letto sì 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 però davanti e non in alto o dietro anche i piedi mi sembra aveva legato anche per i piedi sì 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 e poi aveva dimenticato per fortuna una scatola di fiammiferi sapete le scatole di Cerini in camera gli era caduta così lui era riuscito a prenderla riesce a liberarsi e riesce a denunciare Berdella certo e qua comincia la danza delle indagini perché addirittura fanno una task force tra l'altro le cose cominciano a uscire la stampa mica stampa e viene soprannominato come il macellaio di Kansas City sì che ci sta perché lui macella però in effetti quando senti macellaio non ti viene in mente tutta sta cosa che rapisce gli schiavi sessuali no e no perché penso che la cosa degli schiavi sessuali viene si saprà molto dopo ok no cioè nel senso della però già ai giornali ovviamente i polizzati così avevano detto guarda abbiamo trovato una testa le vertebre avevano sui segni della sega ah c'era un cattino con la sega circolare giù nello scantinato questo qua macellava le persone no beh che sì che tra l'altro sì quindi cioè non stavo dicendo che ha sbagliato il nome è solo che ti fa pensare a una storia un po' diversa rispetto a questa tutto qua però lui era un macellaio assolutamente assolutamente lui era un macellaio sì sì no stavo giustificando il fatto che subito i giornali lo chiamano appunto le Kansas City Butcher perché le prime cose che vengono fuori sono queste infatti lui il 22 luglio viene accusato dell'omicidio di primo grado di Pearson ok perché è l'unico di cui hanno effettivamente le prove perché ricordiamoci è c'è esatto c'è la testa ricordiamoci che siamo nell'88 quindi non si faceva ancora il DNA quindi non è che possono dire ok c'è un cattino però se lui l'ha lavato dal sangue eccetera non è che possono vedere se c'era un residuo di sangue però c'era il residuo di sangue di 6 persone no quindi vai a beccare il DNA di queste 6 persone e quindi ad esempio Pearson riescono a risalire al fatto che lui dà la dentatura perché è stata seppellita la testa quindi controllano i denti e poi anche a Sheldon dei denti trovati nelle buste sì perché lui prima di esporre il teschio aveva tolto i denti e li aveva però conservati che non l'ho capita sta cosa cioè tu un teschio lo vuoi con anche i denti eh sì dipende quando te lo metti in esposizione sul mobile no cioè lo vuoi anche quindi no eh però c'è c'è un lavoro da fare sui denti nel senso che i denti sono dentro dei buchi no con le radici quindi a un certo punto se non ci sono più le gengive non ci sono più i tessuti molli i denti tendono a cadere cadono proprio esatto quindi devi fissarli dentro con della resina però tipo quando vai all'ossario così i teschi di solito ce li hanno i denti la maggior parte cioè pensavo che si solidificava in qualche modo comunque eh magari col tempo sì non lo so cioè nel senso vabbè vabbè niente lasciamo perdere comunque appunto il 22 luglio dell'88 lo accusano di omicidio di primo grado di Pearson e il 22 settembre sempre dell'88 per quello di Sheldon al processo lui si dichiara colpevole si dichiara colpevole e fa un deal with the devil nel senso che il patto col diavolo esatto fa il patto col diavolo nel senso che gli cioè arriva un accordo con con l'accusa no per tutti per tutti gli omicidi tra l'altro all'inizio gli avevano messo anche una cauzione di 500 mila dollari che sono circa un milione e due attuali ok pensavo di più ok no no il fatto è che quando cominciano a trovare le prove quando cominciano a trovare le siringhe i teschi eccetera e le vertebre così la cauzione gliela ritirano lo fanno uscire di galera comunque appunto lui scende a patti fa questo patto no con questo com'è che si chiama l'accordo extragiudiziale quello il patteggiamento è bravo il patteggiamento non mi veniva il patteggiamento con la pubblica accusa con lo stato del del Missouri con il fatto che lui non finirà in galera ma aiuterà a decifrare i codici del cioè non finirà scusate nel braccio della morte esatto cioè perché c'era la possibilità di che ci fosse la condanna a morte invece quella se la fanno togliere esatto e aiuta lo stato a o comunque il pubblico ministero a decifrare il codice che lui aveva usato nel suo diario e anche a tradurre il diario cioè nel senso sì perché era cioè non è che era scritto come scriviamo noi gli appunti era in con l'alfabeto stenografico quindi era anche difficile riuscire a capire i codici poi lui usava i codici per le droghe che usava per appunto 86 per in realtà usava anche mi pare DD per la morte al posto di 86 ah ok sì ma poi scriveva robe strane tipo RP che voleva dire stupro rape sì esatto quindi faceva cose che sapeva solo lui insomma difficile da decifrare esatto e però appunto viene fuori che è un diario molto molto dettagliato e alla fine gli danno mi pare due ergastoli cioè quindi due fine pena mai da scontare consecutivamente per i due amici di primo grado di prima per quattro omicidi secondo grado quindi per diciamo quelli che sono morti senza la volontà cioè lui dice che in realtà non voleva ucciderli però sei come cioè drogandoli eccetera poi poi muoiono sì che secondo me queste differenziazioni non hanno nessun senso nessun senso perché cioè io ci credo che lui non li voleva uccidere lui voleva gli schiavi sessuali ci credo che non li voleva uccidere però che cazzo vuol dire cioè hai comunque rapito e torturato una persona che stai tenendo contro il suo volere legata al letto e gli stai facendo ogni sorta di cose cioè è comunque omicidio volontario secondo me anche se l'intento non era quello eh sì no no è perfettamente anzi secondo me il reatto di tortura dovrebbe essere peggio di quello di omicidio mia opinione personale ma anche mia opinione personale soprattutto vabbè poi poi diciamo e comunque poi viene ovviamente anche condannato per la violenza contro Brison quello che è riuscito a scappare ok viene ovviamente gli fanno i test psicologici viene viene sentito dagli psicologi così ma Marco mi stai dicendo che pensavano che questo qui non fosse assolutamente sano di mente ma come gli può venire in mente una cosa del genere un così perfetto modello cittadino ma infatti uno con uno spirito così cristiano cattolico inculcato cinghiato dal padre fin dagli anni 40 e 50 come potrebbe no vabbè in effetti viene diagnosticato come un maniaco depressivo e come un sadico sessuale ovviamente cioè era anche un grosso maniaco del controllo perché ovviamente visto che era un accumulatore seriale visto che scriveva qualsiasi cosa faceva le sue vittime le fotografava eccetera tra l'altro appunto nelle 334 foto che hanno trovato più le 34 istantanee ci tengono a precisare riescono a riconoscere una ventina di uomini diversi alcuni ovviamente riescono a trovare i familiari che li riconoscano eccetera però non sono esattamente sicuri di quante vittime abbia fatto lui ne ha confessate solo sei e parte del patteggiamento è che lui confessi tutto quello che ha fatto lui dal 13 al 15 dicembre 1988 confessa qualsiasi omicidio nel senso di questi sei ragazzi e lui si ricorda esattamente che cosa ha fatto in ogni momento di quei giorni lì tra virgolette lui ci tiene anche a precisare di non essere un satanista come dicono i giornali perché in casa sua sono stati trovati appunto libri satanismo oggetti che lui vendeva in negozi o esoterici cose del genere lui dice no il satanismo non c'entra niente c'entra il collezionista io ero in fissa col collezionista ero in fissa di avere ci ho provato ci ho provato a tenermene qualcuno sai però sei lì che insomma gli infili un pugno di qua gli dai qualche sprangata all'altra parte questi qui tendono a durare un po' poco sono troppo fragili colpa loro sono troppo fragili però io sono una bravissima persona sono una bravissima persona infatti lui ha istituito un fondo mettendoci anche 50.000 dollari suoi per mi pare Pearson una roba del genere gli fanno ovviamente cause civili cause civili che ammontano poi a 5 miliardi di dollari di risarcimento verso le famiglie cosa che lui ovviamente non potrà mai pagare no però una volta in carcere rompe i coglioni a chiunque perché cominciano a andare ma veramente ma non me lo sarei mai aspettata no 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 tra l'altro scusa scusa ho saltato una cosa nelle confessioni queste qui no è una cosa importante prima di continuare a prenderle in giro perché una cosa lui dice dei ragazzi io non pensavo a loro come se fossero persone una volta che li avevo legati li usavo diventavano qualcos'altro di diverso da persone per me non ho mai pensato oltre a livello di cosa succede se uno di questi corpi sparisse e poi dice che per lui questi ragazzi erano giocattoli giocattoli che lui aveva tentato di salvare e li aveva torturati e uccisi per la frustrazione di non esserci riuscito quello che dicevo prima sì certo l'arrampicata più arrampicata di tutte quella eh lo so lo so tutti tranne appunto Mark Wallace che era quello che si era nascosto nel per ripararsi dalla pioggia che visto che l'aveva trovata in giardino cioè c'era lì cosa vuoi fare non lo torturi eh infatti ti è capitato lì esatto eh sì no beh la roba di rendeli cioè dico l'arrampicata sugli specchi è la cosa che dice che voleva punire anche se stesso per non averli salvati quelli la parte sul renderli giocattoli penso che sia anche veritiero perché vabbè è un po' che non ne parliamo però tutto il discorso della spersonalizzazione tutto ha un suo senso assolutamente assolutamente ma infatti lui diceva lui dice che appunto li vedeva cioè a un certo punto non li vedeva più come persone ma tu non puoi fare quelle cose lì se sai che quella se se ti rendi conto che la persona cioè quello che hai davanti non è un oggetto ma è una persona cioè a un certo punto eh sì ma è quello che fanno tutti i serial killer ad esempio anche Ted Bundy quando qualcuno gli parlava lui non riusciva più ad andare avanti cioè lui gli spaccava la testa alle ragazze spaccava la testa alle ragazze subito quando era in macchina così per evitare che loro dicessero qualcosa e gli facessero cambiare la idea sì certo su quello che doveva fare perché infatti una cosa anche quando si è aggrediti così una cosa che consigliano di fare oltre a urlare al fuoco al fuoco perché se uno urla aiuto nessuno ti caga è è quello di dire ad esempio il proprio nome perché se tu dici il tuo nome il nome ce l'hanno le persone sì no la cioè la la dici spesso questa teoria a me non mi convince c'è e orco non prenderla sul personale no 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 sì allora è una cosa che ho sentito è una cosa che consigliano tutti quelli che si poi cioè ti direi di provare ma secondo me non 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 conviene cioè non è non è una cosa che però in teoria se uno viene aggredito così e pronuncia il nome a un certo punto comincia a diventare ma infatti ce n'erano altri che adesso non mi ricordo esattamente la il particolare forse di Ramirez che se uno parlava lui smetteva una cosa del genere adesso non mi ricordo eh non sono sicura Ramirez può darsi perché lui un po' le ammazzava un po' le lasciava vivi era tutto molto quindi può darsi però mi viene in mente forse era Bilancia che non ha ucciso una ragazza però lei non aveva detto il nome aveva detto ho un figlio gli aveva fatto vedere la foto c'è tipo la tecnica ho un figlio secondo me funziona mille volte di più di dire il nome mia opinione ah sì però se trovi quello cattivo vero secondo me si impunta ancora di più è possibile è possibile però non lo so ho un figlio prendi lui non me cioè non so sembri più cattivo tu no? beh questo sarebbe da provare in ogni caso vabbè comunque dopo questa dissertazione torniamo un attimo a Berdella perché ovviamente quando è in carcere manda me e me manda lettere di come si dice di 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 vibrante protesta a tutti quanti dal giudice al governatore allo stato perché ah in cella ci sono gli scarafaggi ah il cibo non mi piace ah non mi danno le medicine per il cuore a di qua a di là e rompe le palle a tutti quanti ma sai cosa succede con gli scarafaggi? cosa? uh bello dato che una delle cose per cui rompeva di più le balle è che c'erano troppi scarafaggi nelle celle questa cosa è venuta fuori ne ha parlato qualche giornale e un un dj della radio locale ha fatto un appello dicendo mandategli le lettere con dentro gli scarafaggi ah già si si è vero è vero è vero che l'ha stato poi bombardato di lettere con dentro gli scarafaggi perché la gente eh si si è una roba tremenda e lui e comunque lui a tutte le persone che gli scrivevano in carcere eccetera lui rispondeva che in effetti cioè lui era un bravo uomo nel senso che di base era un bravo uomo che ha sbagliato e ha sbagliato uccidendo altre persone però lui cioè non è che voleva fargli del male effettivo no voleva solo torturarli accecarli privarli della voce sfondargli l'intestino non voleva fargli male no 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 infatti ma poi come cazzo ti viene in mente mettere una spatola ha messo una spatola cioè una spatola un cucchiaio una roba del genere sull'occhio a uno e poi gli ha fatto l'elettroshock per prenderlo cioè ma come cazzo ti viene in mente sì quella non so come gli è venuta in mente perché l'elettroshock ai coglioni capisco che ti venga in mente ma all'occhio proprio ma allora è parte della mia routine di bellezza tutte le mattine mi do la 220 alle palche e poi mi crescono i cappelli prima comunque 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 appunto lui si lamenta di queste cose qua l'8 ottobre del 1992 alle 14 del alle 14 quindi alle 2 del pomeriggio dopo mangiato sente una fitta al petto sente una fitta al petto lo viene ovviamente portato all'ospedale muore per arresto cardiaco alle 4 meno 5 dello stesso giorno quindi alle 15 e 55 il giudice che aveva curato il caso a cui era arrivato un sacco di mail di vibrante protesta da parte di Berdella dice non sarebbe potuto succedere a un ragazzo più gentile di lui veramente commenta la morte ma penso che fosse ironico in realtà è nicer guy quindi non so se io l'ho tradotto come il ragazzo più gentile come il ragazzo più carino di lui sì vabbè perché c'è tutta la questione del nice guy però ai tempi non c'era ancora per chi non lo sapesse i nice guys sono i bravi ragazzi quelli che si lamentano che le donne vogliono gli stronzi e non vanno con loro in realtà esatto anche è una è una categoria si possono incrociare le due cose come no e però dicono che appunto le donne non vogliono loro perché loro vogliono gli stronzi poi se li ascolti un po' ti accorgi che sono loro quelli veramente stronzi però loro sono convinti che loro sono quelli bravi però vabbè non penso che facesse riferimento a questa cosa con la parola nice guy perché prima del 2000 non si utilizzava in questo modo quindi ah ok e comunque appunto Robert Berdella muore di arresto cardiaco l'8 ottobre 1992 ha 43 anni e penso che non manchi a nessuno no però notare che secondo me aveva qualcosa di congenito perché anche il padre è morto giovane per un infarto si perché io ho letto molti sospettano che Berdella sia stato avvelenato da qualcuno che lavorava nel carcere perché stava sui coglioni ok legittima teoria però avendo questo precedente del padre mi viene da pensare ci avevano qualche problema di cuore congenito forse è possibile perché lui fin da ragazzino soffriva di pressione alta e fin da ragazzino gli cioè ci aveva la cura si lui denunciava il fatto che non gli davano le pastiglie per il cuore in carcere quindi magari non è avvelenamento magari appunto che l'hanno spinto ad avere un infarto non lo so cioè nel senso forse allora questa cosa che lui aveva fatto il patteggiamento per non avere la pena di morte è stata molto deprecata ai tempi si no quindi forse anche quello lì dicevano lui merita di avere la pena di morte così lo stato non gliela dargliela facciamo noi si boh chi se ne frega a un certo punto non me ne frega stavo pensando che farlo vivere in mezzo agli scarafaggi e lamentarsi per tutta la vita era una punizione forse peggiore della morte ma anche si ma anche secondo me anche secondo me però fa niente il mondo è leggermente meglio senza di lui dai assolutamente tra l'altro c'è tra le varie leggende tra il fatto del satanismo così c'era anche il sospetto che lui avesse dato da mangiare la carne ai suoi tre cani lui ha ci ha tenuto a precisare che né lui né i suoi tre cani abbiano mai mangiato carne umana sì e su questo qua ci posso anche credere anche perché comunque i cani erano dei chow chow cioè nel senso uno dice magari c'ha che ne so il pitbull il doberman così magari sono cani i chow chow non sono cani così aggressivi non mi pare boh io come al solito di cani non me ne intendo assolutamente proprio è un argomento di cui non posso parlare però ma avevano fatto avevano anche visto perché lui aveva nel frigo nel frizzo non mi ricordo la carne proprio per i cani e l'avevano analizzata ed era manzo quella che aveva lì in quel momento lì sì sì ovvio ovvio sì ma anche perché comunque sì non gli hanno trovato carne umana in giro da nessuna parte ma anche perché comunque lui non è che andasse a cercare le vittime no che dice a un certo punto c'è un problema di smaltimento di corpi come faceva Damer ok sì esatto quindi o Gacy eccetera che tra l'altro è un altro forse ne avevamo parlato in un per i Patreon nell'Overtime che sì non mi ricordo dove però avevamo parlato del fatto che appunto di solito essere al killer omosessuali tendono a nascondere le vittime a casa sì sì o comunque fare tutto a casa cioè così sì che poi eravamo arrivati alla conclusione che è possibile per una questione di ami nascondi cioè nel senso non mi faccio vedere in giro con perché sono stigmatizzato eccetera e quindi tendono a farlo più a casa loro è anche vero che secondo l'FBI eccetera i serial killer sono territoriali quindi cominciano dal territorio intorno a casa e poi si espandono no poi vabbè qui nel caso di Berdella erano proprio le vittime che lo chiamavano che quella lì è una roba però lui aveva preparato il terreno per questa cosa sì 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 forse neanche volontariamente l'aveva preparato e si è ritrovato ma io mi chiedo lui in realtà era ossessionato con il collezionista quindi comunque rapire qualcuno contro la sua volontà però io mi chiedo se si fosse trovato uno schiavo consenziente se si fosse andato sai frequentando magari gli ambienti BDSM se avesse trovato qualcuno magari si sarebbe dato una calmata non lo so non lo so non lo so neanch'io cioè sinceramente non non lo so credo di no cioè credo di no perché la sua volontà era proprio dominare e provocare dolore negli altri no quello sì però cioè se trovi se tu come master trovi un sub in teoria magari riesci a trattenere però lui cioè dipende fino a che punto poi ti vuoi spingere chiaramente eh sì eh sì non lo so sono teorie sì ma ne devi trovare uno proprio cioè masochista cioè totalmente masochista perché certe torture secondo me vanno oltre la sopportazione del dolore sì no ma poi secondo me lui voleva rendere voleva schiavizzare nel senso voleva prendere qualcuno di non consenziente sì sì esatto il suo obiettivo sì infatti il collezionista è qualcuno di non consenziente e niente sì allora c'è anche la voce che lui abbia confessato a degli inmates da compagni di carcere di averne uccisi molti di più perché la polizia ne conosceva veramente pochi però da come era maniaco del controllo da come era maniaco del disegnare qualsiasi cosa facesse è strano che alla fine ne venissero fuori solo sei dal diario a meno che non aveva altri taccuini che poi aveva nascosto bruciato perso cose del genere allora quello può darsi che avesse altri taccuini che non hanno ritrovato può darsi è vero che nelle foto ci sono anche altri ragazzi però noi sappiamo quando risalgono quelle foto no magari sono esperimenti invece di bdsm consensuale precedenti esatto no sì perché lui dice di averne uccisi fino a 20 però 20 era il numero di ragazzi di tutte le foto esatto più o meno più o meno quindi quindi boh non si sa e niente questa ragazza era la storia di di berdella speriamo che vi sia piaciuta e sia un po' un po' pesante abbiamo cercato di sramatizzare il più possibile un pelino un pelino pesante proprio eh sì però secondo me non si può raccontare senza entrare ovviamente non si è entrati nei particolari più abbiamo cercato di diciamo di alleggerire anche quello lì ma certo molto molto pesante ma certo sai cosa mi dispiace di questa storia che non si trova niente sul bazar bizar io voglio le foto del bazar bizar invece non le ho trovate quelle ma la cosa che mi incuriosiva più di questo era questo cazzo di bazar e niente vabbè invece no e niente noi vi salutiamo vi diamo appuntamento a settimana prossima ma soprattutto vi diamo appuntamento alle live che faremo quella a Milano allo Spaces di Milano il 28 aprile e il 21 maggio a Roma al Teatro di Servi mi raccomando prendetevi già i biglietti per entrambe le date a Milano perché il posto è piccolo in realtà a Milano non vi prendete proprio il biglietto riservate il vostro posto però fatelo in fretta perché i posti sono limitatissimi e a Roma prendetevi il biglietto perché raga sicuro fino alla prossima stagione non torniamo più a Roma quindi prendete questa chance poi vi prepareremo chissà che puntatona quindi non perdetevi l'appuntamento di Roma sì esatto e niente poi ovviamente seguiteci sui nostri social se volete rimanere aggiornati che è crimeandcomedy.podcast su Instagram crimeandcomedy crimeandcomedygroup su Telegram poi c'è il sito crimeandcomedy.it su cui potete vedere le live c'è proprio la pagina live e lì mettiamo tutti i link per andare a prendere i biglietti e per ascoltarvi le live che poi pubblichiamo e niente per il momento basta così per il momento vi salutiamo vi ringraziamo e vi diamo appuntamento grazie a tutti i Patreon e vi diamo appuntamento a settimana prossima sì ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti